buongiorno a tutti e benvenuti in questo in questo momento a tutti coloro che sono in ascolto chi vi parla è dino spanghero dalla sede udinese dell'ampi associazione nazionale partigiani d'italia e da nome della nostra associazione voglio subito salutare oltre che i relatori che hanno così cortesemente accettato il nostro invito per questo incontro i presidenti delle associazioni antifasciste partisane di slovenia e di croazia marian krisman e franio abulin una comunicazione di di servizio prima di entrare prima di entrare nel merito cioè hanno subito una lieve variazione nella titolazione gli interventi di eric gobetti e ivo goldstein tra l'altro si sono parlati anche tra di loro e la cosa di la verità ci capita fagiolo perché serve a smentire una serie di storie che ultimamente sono trappelate anche in italia e tese a propugnare l'idea che anche il movimento nazionalista serbo dei cetnici sarebbe stato antifascista quindi i due interventi verranno così titolati eric gobetti parlerà dei rapporti tra il regime fascista e gli ustascia 1929-1943 mentre il professor goldstein parlerà tra le le differenze tra i cetnici e i partigiani bene quindi proseguiamo uno dei principali impegni che ci eravamo assunti tra le nostre ci eravamo assunti tra le nostre delegazioni nazionali a trieste lo scorso 25 settembre era l'organizzazione di un convegno storico incentrato sull'invasione della jugoslavia di cui quest'anni ricorrevano gli 80 anni appunto dall'evento la guerra in quanto tale racchiude in sé tutti gli elementi della tragedia cioè la negazione dell'umanità ed il trionfo della malvagità della forza brutta intelligente sulla inermità intelligente delle popolazioni nel breve lasso di tempo che intercorre tra i 6 e il 17 aprile 1941 già fragilissimo regno di jugoslavia viene assalito dagli eserciti dell'asse e diviso con come un pittoresco piccaresco bottino tra germania italia e gli alleati balcanici l'occupazione dà il vita da vita a tutta una serie di atrocità che l'autorità militare italiana impone alla comunità slovena con il preciso scopo di annientare cancellare un popolo e la sua storia nello stesso tempo nasce però la resistenza jugoslava che si apporrà in modo esemplare alla fine vincente sugli occupatori incendi di paesi fucilazione di civili deportazioni campi di concentramento foibe regolamento dei conti vendette pubbliche e private queste terre intendo le nostre terre dal friuli hanno visto anche il triste transito dei vagoni blindati in cui erano stipati i soldati italiani nel loro tragico viaggio verso i campi di concentramento e di lavoro quattro in germania provenienti dai territori a loro occupati di gressa albania e appunto jugoslavia molti gli episodi emblematici questo questa faccenda di questo fatto molti gli aiuti delle popolazioni specialmente delle donne e poi il dramma della scelta se aderire al nuovo al nuovo sistema e quindi al reich si aderire alla repubblica sociale oppure come come moltissimi la maggioranza assoluta 600 mila su 700 mila hanno fatto hanno rinunciato diciamo la possibilità di passare sotto l'esercito tedesco per mantenere la loro fedeltà a giuramento che aveva che avevano fatto numeri impressionanti di prigionieri morti invalidi tema questo che meriterà indubbiamente un uno specifico convegno l'approccio comunque alla guerra di jugoslavia è stato sempre influenzato e traviato da un'interpretazione che la politica del dopo guerra ha svolto a proprio vantaggio di parte alimentando miti e leggende che hanno travisato spesso la realtà dei fatti i convegni l'incontro gli studi come questi servono a smitizzare intento appunto questo riportare nel loro giusto alve opinioni e soprattutto opinioni altrimenti falsate e portare alla conoscenza di tutti episodi fatti documenti tali da ridimensionare il mito ne cito due tanto per essere chiari sono i più diffusi quello che riguarda gli italiani brava gente e quello che riguarda la polizia e fatti non foste per vivere come brutti ma perseguire virtute e conoscenza afferma il nostro massimo poeta e racchiude in questi due termini virtute e conoscenza il fine dell'uomo sia quale ente individuale cioè titolare di intelligenza personalità etica morale sia quale ente sociale cioè ente capace di rapportarsi all'altro e costruire insieme all'altro l'uomo nuovo la nuova società quindi non con la pretesa di calare dall'alto un prodotto definito ma con la finalità di fornire un quadro il più possibile obiettivo su quanto è successo nelle nostre terre dal 1941 in poi e fare un po più di luce sulla complessa vicenda del confine orientale così come la definisce la legge 30 marzo 2004 numero 92 meglio conosciuta come legge istitutiva della giornata del ricordo appunto con questi intendimenti ospitiamo oggi attorno allo stesso tavolo storici e studiosi di cultura slava di cultura latina e affidiamo loro la conoscenza e a tutti noi dopo la virtute questo riteniamo sia un ulteriore passo dopo gorizia roma aquileia e sezana che le nostre associazioni partizane forti della comune esperienza resistenziale che si oppose e sconfisse il nazifascismo convinte che la comune radice antifascista porta in sé i valori universali di dignità della persona umana solidarietà democrazia giustizia sociale pace che sono il fondamento delle nostre costituzioni democratiche questo dicevamo è un ulteriore passo verso il comune obiettivo di un'Europa dei popoli e delle regioni dove le diversità storiche culturali religiose e sociali non siano più un motivo di conflitto ma anzi costituiscano uno stimolo forte per un corretto confronto nella prospettiva di un reciproco arricchimento in umanità e progresso quindi buon ascolto a tutti e buon lavoro ai relatori io dovrei passare immediatamente adesso la parola a marian chrisman presidente della zzb nob della vicina repubblica di slovenia grazie dino marian ti sento benissimo grazie ecco si sentiamo adesso il mio italiano non è troppo buono io parlerò come posso dopo prima di tutto vi saluto in lingua slovena che è la mia lingua e oggi vi porto porto anche i saluti del collega javul infragno che non poteva partecipare oggi a questo questo evento e mi ha pregato di portare i saluti suoi dei compagni di croazia bene prima ho fatto in slovena dopo l'utraduco svi dragi tovarecchi e dragi prijatelji veselime da smo danes verjetno prvi činito zgodovinski korak ampia italija zzb nob slovenia in in hrvaških kolegov è to zelo pomemben korak za zgodovino za zgodovino ki raščiščuje preteklost in ki pravzaprav odstrinja neke zavese ki so nam seveda tvorile neko meglo da nismo se pravzaprav nikoli pogovarjali tako odkrito kot se pogovarjamo v zadnjem letu hvala gre vam dragi kolegi prijatelji in tovariši kot sem že rekel Dino Spangeru še posebej pa novemu predsedniku Jean-Franco Paljarulu ki je v svoje nove mandatu ki ga je nastopil tako je odprl eno zelo zahtevno poglavje in to je seveda ponovno odprtje vseh problemov pač prve satone vojne napad Italije takratne fašistične Italije na Slovenijo Jugoslavijo je tako kot je povedal kolega Jean-Franco točno tako so se te stvari dogodile na to seveda je sledilo vse drugo kar je pač v zgodovini sledilo danes po tolkih letih sem prepričan kot sem prej rekel da smo odprli neko novo stran zgodovine s katero bomo lahko bolj smelo stopali skupaj prijateljski narodi in vsi tisti ki želimo pomiritev in seveda zlasti mi antifašisti Allora Karja Miči so na leto di poter partecipare oggi a questo convegno ringrazio Gianfranco Pagliarulo e tutti gli altri Dino Spanghero e tutti che avete fatto tanto per poter oggi avere questo evento come hai detto tu Gianfranco ci siamo incontrati parecchie volte Sejana Roma e altri posti e oggi la prima volta in storia che ci siamo trovati in questo convegno per chiarire le cose storiche per chiarire per andare avanti come amici come compagni noi come antifascisti ma i nostri paesi come paesi vicini come paesi che vivono vivono insieme come viviamo in una Europa aperta Noi in Slovenia abbiamo provato tante volte ma bisogna che vengano i uomini come sono Spanghero e Pagliarulo e ancora una volta vi ringrazio per poter partecipare oggi a questo questo convegno per noi a questo noi diamo massima importanza anche io do massima importanza perché io sono io sono di casa in Capodistria lavoro in Jubljana ma sono di casa in Capodistria e questa storia la conosco molto bene e ancora devo dire questo italiani e sloveni sono le sono due popoli amichevoli questo senz'altro noi che viviamo in Capodistria in costiera ancora di più non non dobbiamo dimenticare che fra Italia e Slovenia dal 45 al 90 era un confine più aperto nell'Europa e questo confine bisogna che sia aperto ancora ancora di più e avanti e per questo penso che noi siamo oggi qui io sono veramente ancora una volta contento e onorato che posso partecipare prima volta nella storia con questi questi eventi storici grazie a tutti voi che siete organizzati questo questo convegno questo evento io penso che non mi rivolgo più alla parola con questo vi saluto e auguro buon lavoro a tutti grazie a te Marian per la preziosa testimonianza logicamente ti assicuriamo che anche nei nostri intendimenti c'è sicuramente la prosecuzione dei rapporti amichevoli che abbiamo instaurato in questi ultimi anni dal momento che appunto Marian ha parlato anche in rappresentanza di Franio Habulin noi passiamo subito agli interventi e cominciamo con il primo dando la parola al professor Josep Pirjevez che intitolerà appunto la sua relazione l'invasione della Jugoslavia a lei professor Pirjevez grazie mi sentite è tutto a posto sì per l'Italia la creazione del regno dei serbi croati e sloveni il primo dicembre 1918 fu una mala sorpresa essa era entrata in guerra al fianco dell'intesa col proposito di respingere la monarchia asburgica dall'Adriatico e al di là delle Alpi sperando di assicurarsi frontiere strategiche e dominare il mare nostro per diventare potenza egemone nei Balcani e nel Mediterraneo orientale la decisione dei croati degli sloveni di cercare rifugio sotto le ali protettrici della dinastia dei Karajorjevic sconvolse questi piani suscitando fra le elite al potere ma anche fra le masse popolari un senso di frustrazione che viene ben espresso dallo slogan coniato da Danunzio sulla vittoria mutilata alla conferenza di pace a Parigi l'Italia cercò di boicottare il riconoscimento internazionale del nuovo regno e più tardi non riuscendoci fece di tutto per minarlo dall'interno appoggiando e fomentando le tensioni etniche che lo laceravano quella montenegrina kosovara e macedone prima poi quella croata su questa ostilità di fondo impostata dai liberali e coltivata dai fascisti si innestarono tre momenti segnati da tentativi d'intesa il primo si ebbe con il trattato di rapallo il 12 novembre del 1920 con il quale il governo gioliti sforza tracciò la frontiera con il regno dei serbi corati e sloveni rinunciando alle pretese su gran parte della costa orientale a parte l'onclav di zara e alcune isole il secondo fu il trattato di Roma del 24 sull'abolizione della città libera di fiume e la sua anessione all'Italia il terzo fu concordato da Galeazzo Ciano vice ministro agli esteri e il premier jugoslavo Milan Stojadinovic nel 1937 con il quale i due cercavano di bilanciare la crescente influenza tedesca nei Balcani che suscitava a Roma parecchio alarme dopo la sua ascesa al potere il Führer riuscì infatti a risollevare la Germania dalla crisi in cui era piombata dopo la prima guerra mondiale dando slancio alla sua economia e stabilendo intensi rapporti economici con i paesi dell'area danubiale questo espansionismo fu visto a Roma come una concorrenza pericolosa che bisognava contestare e non soltanto contrastare non soltanto con manovre diplomatiche ma anche con conquiste territoriali da qui la decisione presa da Mussolini nel 1939 di invadere e annettere all'impero l'Albania e più tardi nel 1940 di sferare un attacco alla Grecia e gli intendeva muovere guerra anche alla Jugoslavia ma ne fu impedito all'ultimo momento da Hitler che guardava a queste avventure belliche con avversione aveva ragione fin dalla seconda metà dell'Ottocento l'Italia coltivava ambizioni imperiali che non corrispondevano al suo peso politico internazionale alla forza del suo esercito allo sviluppo della sua economia e della sua società gravata da sacche estese di miseria e ignoranza nel 1861 al momento dell'Unione il 78% della popolazione italiana era analfabeta nel 1911 alla vigilia della prima guerra mondiale il 46,7% e nel 1931 il 21% nonostante questa triste realtà le classi dirigenti italiane la media e piccola borghesia si ubriacavano di un nazionalismo parolaio probabilmente unico in Europa visto il divario tra le aspirazioni di potenza e le facoltà di attuarle come giustamente sentenziò Carlos Forza l'impero romano era la più grande disgrazia del popolo italiano per quanto riguarda le regioni adriatiche va aggiunto adesso anche l'impero di Venezia il marescialo Alfred Jodel capo di stato maggiore del comando supremo della Wehrmacht lasciò scritto in un appunto prima di suicidarsi nel 1946 che Mussolini aveva deposto nel nido di Hitler due uova di cucolo che questi dovete corare per sua disgrazia la Grecia e l'Africa settentrionale infatti dato che le truppe italiane si trovarono in difficoltà tanto nei Balcani quanto in Libia e li dovete soccorrere con l'impegno delle proprie truppe sottraendole al principale impegno bellico quello contro l'Unione Sovietica Hitler aveva sperato a lungo di attrarre la Jugoslavia che era come abbiamo detto economicamente dipendente dalla Germania nella sua sfera politica dopo aver anesso l'Austria al Terzo Reich aveva stretto alleanza con l'Ungheria la Romania e la Bulgaria stazionandovi anche le sue truppe per completare il dominio dell'area danubiano balcanica importante per lui in quanto fornitrice di derate alimentari minerali e petrolio ma anche zona coscinetto sul pianco meridionale dell'Unione Sovietica mancava solo la Jugoslavia qui però le sue avance affinché il paese aderisse all'asse si scontrarono con un uomo di un certo spessore il principe Paolo Karagiogevic che dopo la morte violenta del cugino Alessandro nell'ottobre 1934 aveva assunto la regenza in nome del nipote minorene re Pietro II a differenza di Alessandro un cinico senza scrupoli circondato da generali serbi corotti e altrettanto privi di principi Paolo non amava il potere era un uomo colto cosmopolita alieno dal aggressivo nazionalismo serbo capace di confrontarsi con i problemi reali del paese e abbastanza audace da cercare di risolverli rendendosi conto che il nodo jugoslavo più importante da sciogliere al più presto fosse quello fosse il conflitto fra scrati e serbi e li affrontò il problema con notevole piglio nel 39 organizzò un colpo di mano contro Stojadinovic che per i suoi gusti si era legato troppo all'Italia e alla Germania nutrendo ambizioni dittatoriali e lo sostituì con politici a lui ligi incaricati di trovare un modus vivendi fra le due etnie più importanti del regno dopo trattative segrete con Vlad Komacek il leader del partito contadino croato e gemone in Croazia fu concluso un accordo simile all'ausgleich fra l'Austria e l'Ungheria del 1867 la Croazia che s'allargava alla Dalmazia e a buona parte della Bosnia e Segovina acquistò acquistava nell'ambito del regno una vasta autonomia con vicere il barno e un governo proprio a Zagabria questa soluzione dettata dal buon senso e raggiunta nell'agosto del 1939 qualche settimana prima dello scoppio della seconda guerra mondiale pose però il principe Paolo in gravissimo pericolo dato che l'opinione pubblica serba sobillata da intellettuali di spicco e dalla chiesa ortodossa si sollevò contro di lui lo slogan del momento era serbi sulle barricate secondo informazioni raccolte dall'intelligence britannica contro il regente furono organizzati ben 15 attentati nessuno dei quali però portato a termine egli si rendeva conto dei pericoli che correva ma non si perse d'animo avendo il coraggio di confrontarsi con lo stesso Hitler il fuhrer deciso di soccorrere l'Italia in Grecia aveva bisogno come abbiamo detto di aggiungere al suo tris di stati vassali balcanico danubiani Ungheria Romania Bulgaria anche la Jugoslavia corteggiò pertanto principe Paolo per convincerlo ad associarsi a quel ordine nuovo che egli intendeva stabilire in Europa ma questi pur rendendosi conto di avere a casa propria una quinta colonna filonazista la numerosa e ricca minoranza tedesca 500.000 persone circa li tene testa legato com'era per parentela dinastica per educazione per mentalità alla Gran Bretagna Egli era in certo quel modo un collaboratore dell'intelligence inglese tanto da essere definito da questo nelle proprie carte col nominio Our Friend il nostro amico e talvolta soltanto con la F maiuscola nella storia non si è mai visto un capo di stato che abbia fornito ai servizi segreti stranieri tante informazioni quante ne abbia dato io confessò più tardi principe Paola nonostante questo legame di cui ovviamente i tedeschi erano al corrente il regente fu anche capace di agire in maniera autonoma Egli cercava di convincere i suoi amici britannici dell'urgenza di un'alleanza anti-ass fra Londra e Mosca ma senza successo vista la miopia politica del governo di Chamberlain Paolo agì di propria iniziativa instaurando nel giugno del 1940 rapporti diplomatici con l'unione sovietica nella speranza che essa potesse offrirgli qualche aiuto nel tentativo di resistere a Hitler si trattò di un gesto rivoluzionario che rinegava la politica ostile nei confronti dei bolshevichi praticata da re Alessandro dopo la rivoluzione d'ottobre egli infatti aveva spalancato le porte della Jugoslavia agli esoli russi riconoscendo il governo zarista in esilio e coltivando qualche speranza di salire in quanto unico sovrano di origine slava in Europa prima o poi sul trono dei Romanov i tentativi del regente Paolo di conservare la neutralità del proprio paese furono vani nonostante gli sforzi dei suoi amici britannici per convincerlo di resistere per suggerimento di Milan Gavrilovic ambasciatore jugoslavo a Mosca ma anche collaboratore dell'intelligence all'ultimo momento essi cioè gli inglesi gli promisero perfino dopo la vittoria la revisione della frontiera di Rapano che aveva separato un terzo degli sloveni e 150.000 croati circa dalla madre patria associandoli assoggettandoli all'Italia ma come riferì l'ambasciatore britannico al foreign office nel dispaccio in cui dava conto dell'incontro con il principe questi rispose soltanto con debole sorriso dopo aver installato le sue truppe in Bulgaria la pressione di Hitler diventava sempre più fronte sempre più pressante sulla classe politica jugoslana che alla fine cedette il 25 marzo 1941 il presidente del consiglio Draghisza Svetkovic e il ministro degli esteri Zinsar Markovic partirono per Vienna dove in presenza di Hitler Ribbentrop Ciano e dell'ambasciatore giapponese a Berlino firmarono l'adesione della Jugoslavia all'asse Hitler era raggiante meno i due Jugoslavi che apposero la loro firma al patto con una espressione disperata come se andassero al patibolo per dirla con Führer detto un passant ambe due erano legati ai servizi segreti britannici il patto per la verità non era svantaggioso per la Jugoslavia prevedeva infatti la sua adesione al nuovo ordine hitleriano ma in una clausola segreta non pretendeva la presenza della Wehrmacht sul suo suolo e neanche il diritto di passaggio delle truppe tedesche verso la Germania la cui invasione era imminente se fosse entrato in vigore avrebbe risparmiato probabilmente ai popoli jugoslavi molte sofferenze garantendo loro almeno per un certo periodo una posizione tutta particolare nell'ambito dell'Europa nazista ma così non fu in Serbia soprattutto a Belgrado scoppiarono violenti molti popolari animati dal tradizionale odio per i tedeschi della popolazione e fomentati dai circoli nazionalisti e dalla chiesa ortodossa i capi militari fortemente penetrati dai servizi segreti britannici che favorirono un push contro il principe Paolo passarono all'azione la notte fra il 27 e il 28 marzo si impossessarono della capitale deposero il governo mandarono il regente in esilio e proclamarono maggiorenne il 17 re Pietro instaurando un nuovo governo capeggiato da un generale dell'aeronautica in pensione Dusan Simović i ministri serbi furono deposti non però quelli croati e sloveni che aderirono al nuovo potere per preservare i propri popoli da altri guai in verità i giochi ormai erano fatti alla notizia del colpo di stato belgrade Hitler ebbe un violento attacco di rabbia ordinando immediatamente ai suoi generali di organizzare di aggiungere all'operazione marità contro la Grecia un'altra contro la Jugoslavia detta strafgericht corte penale a nulla valsero i tentativi del governo Simović di calmarlo con l'assicurazione che il tatto con l'asse rimaneva in vigore il dado era ormai tratto Churchill che aveva salutato la notizia del golpe con entusiasmo il popolo lugoslavo aveva ritrovato la sua anima disse consigliò a Simović un'azione audace attaccare di sorpresa gli italiani in Albania per metterli in difficoltà impossessarsi delle loro armi e confrontarsi in tal modo con i tedeschi il governo bilgardese che ordinò una mezza mobilitazione generale non ebbe però il coraggio di accogliere questo suggerimento ma puntò invece sull'Unione Sovietica che da tempo guardava all'espansionismo di Hitler nei Balcani nonostante il patto Ribbentrop-Molotov con apprensione essa secondo i segnali che venivano da Mosca era disposta ad appoggiare la Jugoslavia nella resistenza al Terzo Reich fino al punto di fornirle le armi a tarda sera del 5 aprile 1941 si ebbe così al Cremlino nell'ufficio di Molotov una cerimonia piuttosto straordinaria fra la Jugoslavia e l'Unione Sovietica veniva firmato un patto di amicizia in caso di attacco da parte di una terza potenza Stalin in persona assistete alla firma del documento sebbene l'ambasciatore tedesco a Mosca l'avesse avvisato di non prendere impegni con Belgrado era questo il suo unico gesto di sfida nei confronti di Hitler che in quel momento stava preparando l'operazione barbarossa per quanto riguarda Mosca scrisse nel suo diario il segretario generale del ministero degli esteri tedesco Ernst Weissacker già da alcune settimane stiamo camminando su una stretta passatoia fra odio e amicizia dopo la firma del patto la Jugoslavia e l'Unione Sovietica dopo la firma del patto fra la Jugoslavia e l'Unione Sovietica Stalin invitò i partecipanti ad una cena di mezzanotte durante il quale faceva il gradasso diceva di non temere i tedeschi e proponeva un immediato contatto fra militari Jugoslavi e Sovietici per concordare la fornitura di armi mentre però il banchetto era ancora in corso all'alba del 6 aprile 1941 800 bombardieri tedeschi comandati dal generale austriaco Alexander Lure si levarono in volo dalle basi in Bulgaria per attaccare importanti postazioni militari Jugoslave e la capitale Belgrade Lure affermò più tardi che gli obiettivi da bombardare erano stati scelti per la loro importanza militare ma il bombardamento di Belgrado nonostante fosse proclamata città aperta aveva tutto il sapore di un gesto di vendetta esso fu articolato in ben sei ondate successive e provocò un'immensa distruzione causando la morte di circa 4.000 persone era domenica delle palme secondo il calendario ortodosso seguì un attacco concentrico della Wehrmacht alla Jugoslavia dapprima con i carri armati dalla Bulgaria per troncare i contatti con la Grecia poi dall'Ungheria e dalla Romania in direzione di Belgrado e dall'Austria in direzione di Zagabria all'attacco partecipò anche l'Italia con i suoi aerei e con esercito che superò senza trovare particolare resistenza la frontiera albanese e quella di Rapala nonostante la struttura montana del paese coperto da estesi boschi e provisto da una rete viaria piuttosto modesta fattori che avrebbero permesso notevoli possibilità di difesa le forze armate jugoslave non furono capaci di opporre resistenza alle 56 divisioni nemiche esse avevano a disposizione solo 37 divisioni male armate e un pugno di aerei antiquati ma quello che soprattutto mancava era la volontà di combattere dai croati e dagli sloveni in primo luogo i serbi furono gli unici ad offrire qualche resistenza cogliendo anche qualche successo come per esempio il sabotaggio delle miniere di Bohr che interruppe l'estrazione di rame per un anno intero o una breve incursione in Albania settentrionale ma questo fu pressoché tutto che la partita fosse persa divenne evidente quando il 14 e il 15 aprile il re con il suo governo fuggirono per via aerea da Nixic nel Montenegro in Grecia dove c'era ancora un nucleo militare britannico il 17 aprile il generale Danilo Kalafatovic per incarico del presidenze del consiglio concluse l'atto di capitulazione con il generale Ler questo colpo di mano annotò nel suo diario Josef Goebbels è uno dei fatti più brillanti della storia militare Dio ci conservi ancora a lungo il Führer in questo caso la vittoria è assicurata i tedeschi fecero da 200.000 a 350.000 prigionieri ma la metà di questi soprattutto i non serbi furono presto rilasciati per mancanza di un severo controllo anche molti serbi riuscirono a tagliare la corda erano gli stessi soldati scrisse il Feldmarasciallo Jodl nel suo appunto che condussero successivamente a malapena vestiti sotto la guida di Tito una piccola guerra contro di noi finché da essa non nacque una nuova armata comunista fra il 21 e il 22 aprile Ciano e Ribbentrop si incontrarono a Vienna per spartirsi il bottino come lamentò più tardi Mussolini i tedeschi si assicurarono la parte più fertile e ricca di minerali del paese lasciando agli italiani da rosicchiare un mucchietto di ossa questa triste realtà fu nascosta però all'opinione pubblica italiana sommersa da un'ondata propagandistica tesa a celebrare le grandi conquiste territoriali le truppe italiane erano a Ljubljana la capitale della Slovenia avevano occupato il litorale Corato e la Delmazia centrale Spalato inclusa le bocche di Cattaro e sembrò che la vittoria mutilata dopo la prima guerra mondiale non fosse più mutilata l'Adriatico era diventato il mare nostro il regno vassalo d'Albania si era allargato a quasi tutto il Kosovo il Montenegro era destinato a diventare a sua volta un regno vassalo sotto la dinastia dei Petrovic imparentati con i Savoia la Croazia proclamata stato indipendente eretta dagli Ustosha di Anton Pavelic aveva accettato un re Sabaudo Aimone d'Aosta Tomislao II sembrava che ulteriori espansioni italiane verso l'Europa centrale e quella danubiana fossero a portata di mano il 27 aprile 1941 il governatore della provincia di Ljubljana Emilio Grazioli scrisse al duce per informarlo che le autorità locali più importanti il vescovo e l'ex Bano avevano assicurato piena lealtà al nuovo regine non sapeva che lo stesso giorno in una vila periferica della città un pugno di uomini di diversa fede politica comunisti socialisti cristiani liberali avevano deciso di costituire il fronte di liberazione con l'impegno di combattere l'invasore con le armi in pugno ma non solo in Slovenia in tutte le regioni Jugoslave i comunisti guidati da Tito stavano preparando la rivolta quando essa scoppiò dopo il 22 giugno giorno in cui Hitler attaccò l'Unione Sovietica fu per gli occupatori una mala sorpresa che non avevano previsto grazie grazie a lei professor Pirjevez per questo ampio spettro sulle situazioni sulla situazione politica dell'Europa prima appunto del fatidico aprile del 41 che portò poi all'occupazione della Jugoslavia quindi grazie a lei professor Pirjevez e adesso diamo la parola al professor Ivo Goldstein storico docente universitario a Zagabria con il quale ci scusiamo di averli così dovuto preparare insomma l'intervento in tempi brevi dal momento che lui stesso ci aveva detto che ha degli impegni successivi alle 17 quindi speriamo di ascoltare con calma il suo intervento dopodiché ci risentiremo più avanti a lei la parola professor Goldstein grazie grazie a tutti grazie per la possibilità di partecipare a questa conferenza chi è secondo me veramente importante come signor Clavian ha detto allora devo scusarmi perché non parlo bene italiano ma posso lire benissimo 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 non si preoccupi nei circoli politici e accademici si discute da decenni se in Jugoslavia durante la seconda guerra mondiale ci fossero due monumenti antifascisti in altre parole alcuni sostengono che anche i cetnici di Raja Mihailovic rappresentassero un esercito antifascista io affermo che solo i partigiani sotto la guida di Ossi Brostitto erano antifascisti e in seguito liberatori in questo intervento spiego nel dettaglio quale fosse la differenza tra cetnici e partigiani le forze della grande Serbia o della Jugoslavia integrale fondarono la propria organizzazione militare nel maggio del 41 allora un gruppo di ufficiali e sotto ufficiali Jugoslavi sotto il comando del colonnello Raja Mihailovic si riunì a Ravnagora nella Serbia occidentale Mihailovic annunciò di non volersi arrendere né deporre le armi come aveva fatto invece la maggior parte delle forze Jugoslave e affermò di essere il legittimo successore dell'esercito sconfitto nell'estate del 41 il governo Jugoslavo a Londra accettò l'organizzazione di Mihailovic come propria espressione militare legittima e Mihailovic fu promosso al grado di generale bene ancora innalzato al rango di ministro dell'esercito l'anno successivo allo stesso tempo vari politici e funzionari pubblici iniziarono a riunirsi attorno di movimento di Mihailovic che nell'angosto 41 fondò il comitato politico di Ravnagora a Belgrado la propaganda cetnica durante la guerra affermava che i cetnici erano gli ultimi guardiani dei serbi in via di estinzione ruolo che ritenevano di aver avuto anche ai tempi della Jugoslavia monarchica in realtà Mihailovic e i suoi seguaci fin dall'inizio ribolivano di una rabbia vendicativa per il presunto tradimento di creati e musulmani allo scoppio della guerra nella 31 e poi per i crimini degli Ustasha il movimento di Mihailovic sostiene la continuità con il regno di Jugoslavia e il primato della Serbia si pensava che la guerra fosse una situazione temporanea destinata a risolversi sui principali fronti con inevitabile vittoria degli alleati nel settembre e nell'ottobre 41 in due incontri svoltesi della Serbia occidentale Tito e Mihailovic cercarono di stabilire una basse comune di resistenza all'occupazione tedesca italiana e dei loro aiutanti le differenze ideologico-politiche così come la rivalità tra i due movimenti erano però troppo grandi già alla fine di ottobre ci fu un conflitto in cui i cetrizi uccisero dei partigiani consegnandone altri feriti ai tedeschi gli scontri si estessero presto al Montenegro all'Herzegovina orientale e alla Bosnia nel primavera del 41 ne scoppiarono in Croazia divampò ovunque un'autentica guerra civile tra coloro che tra coloro le pure pure per un breve periodo erano stati alleati i partigiani a guida comunista seguivano la tattica di attaccare continualmente il nemico e prescindere delle perdine e dalle vittime causate da eventuali repressaglie contro i civili i cetrizi si opponevano ad azioni offensive contro nazisti fascisti e gli altri eserciti che si trovavano in condizioni di superiorità pensavano che constasse troppe vittime soprattutto da quando Hitler nel settembre 41 aveva ordinato di uccidere 100 ostaggi civili per ogni tedesco morto e 50 per ogni ferito i cetnici sostenevano la tattica di aspettare fino a quando sarà il momento giusto per una rivolta generale fino ad allora era necessario difendere la popolazione serba dal genocidio degli Ustasha nello stato indipendente di Croazia ovvero salvare la sostanza biologica del popolo serbo allo stesso tempo i cetnici controllati direttamente e indirettamente da Mihailovic si vendicavano di crati a muslimani anche con l'uccisione di donne bambini e anziani e ripulivano etnicamente le parti orientali della Bosnia e Herzegovina dai muslimani il movimento degli cetnici non era unitario a differenza del movimento partigiano che Tito nonostante la difficoltà di comunicazione riusci comunque a controllare pertanto molti luogotenenti dei cetnici sono evoluti in veri principi regionali tuttavia un'ideologia comune e obiettivi militari strategici si legavano inestricabilmente la prima azione di vendetta dei cetnici fu registrata in 15 aprile 41 quando un distaccamento in ritirata da Mostar in Herzegovina ovvero gli Ustasha aveva preso il potere uccise diverse dozime di civili croati nel villaggio vicino e apicò il fuoco a un certo numero di case per tutto il 41 si ripeterono casi simili azioni genocide più massicce vennerò organizzate solo quando si giunse alla rottura con i partigiani alla fine del 41 e negli anni successivi per la maggior parte le vittime dei cetnici furono cittadini musulmani nella Bosnia orientale e sud orientale ad esempio documentazione cetnica afferma che in un'operazione di vendetta nell'area intorno a Focia e a Sanjak all'inizio di febbraio 43 vennerò uccisi circa 1200 combattenti muslimani e 8000 tra anziani donne e bambini mentre i cetnici registrerarono perdite puri a 22 morti e 32 feriti certamente il numero delle vittime civili sarebbe stato ancora più grande se la maggior parte dei civili della zona non si fosse precedentemente messa in salvo soprattutto a Sarajevo in Croazia i crimini di massa dei cetnici contro i corati e i serbi che erano loro ostili sono rimasti invece limitate a parte dell'entroterra d'Almata alla regione di Knin e una piccola parte della Liga come testimonia vividamente lo scrittore e giornalista croato Ilia Jakovjevic molti bambini cattolici e muslimani sono stati uccisi laddove i condottieri cetnici li hanno trovati queste bande sapevano come pugnalare un bambino altrettanto bene che gli eroi eroi ustascia in termini ideologici ideologici e politici non c'era molta differenza tra gli ustascia e i cetnici tuttavia le vittime dei cetnici sono molte meno rispetto a quale degli ustascia la ragione è che gli ustascia avevano uno stato di grado in grado di organizzare deportazioni e campi compresi campi di esterminio i cetnici invece no il movimento cetnico promosse l'idea di una Serbia grande e omogena il che significava la creazione di un stato nazionalmente e religiosamente puro e computo ripulito dai popoli non serbi e dalle minoranze nazionali riunite tutti i serbi e stato dichiarano il compito principale stanti questi progetti la Serbia si sarebbe espansa a tutta la Bosnia Herzegovina a gran parte della Croazia si prevedeva addirittura di stabilire un confine comune diretto con la Slovenia pulendo la popolazione croata i serbi credevano che raggiungendo questi obiettivi la Serbia sarebbe diventata lo stato leader nella regione il che le avrebbe permesso di essere collegata federalmente ad una Croazia neutralizzata dal momento che durante la guerra i conti sarebbero stati regolati i partigiani si opposero a ciò con il loro programma jugoslavo di un'unione di popoli uguali lo slogan fratellanza e uniti e soprattutto la composizione con la composizione etnica mista delle loro unità specialmente in Croazia tuttavia alcune azioni di vendetta con incendi dolosi e uccisione in alcuni villaggi coati ebbero luogo da parte dei partigiani già nel 41 avvene anche che gli ustasha catturati venissero fucilati in massa ma questa non divenne mai una pratica sistematica le differenze tra i due movimenti partigiani e gli cetni erano ancora più marcate per quanto concerne gli obiettivi all'urgo termine Dasha Mihailovic aveva proclamato i cetnici esercito jugoslavo in patria che sotto lo slogan per il re e la patria si batte per la continuità e il rinnovamento della Jugoslavia monarchica mentre i partigiani si sono apertamente opposti al re e al governo jugoslavo a Londra e al ripristino del vecchio ordine la differenza del concetto dei cetnic della grande Serbia a differenza del concetto dei cetnic della grande Serbia i partigiani sostenevano la Jugoslavia con sei repubbliche federali uguali e la democrazia sebbene stante la loro leadership comunista si intuiva che il sarebbe trattano una democrazia sotto il regime comunista stante il loro programma i cetnici nel periodo 42-43 avevano più sostenitori dei partigiani sia in Serbia che in Montenegro anche in Croazia tra gli sorti di nazionalità serba i cetnici ebbero una certa influenza grazie ai loro slogan e ai proposti di vendetta anticroata ma i comunisti erano molto meglio organizzati inoltre nell'area dello Stato indipendente di Croazia i partigiani erano molto più efficienti nel difendere i villaggi serbi dalla violenza degli ustasha ottenendo per questo un sostegno superiore a quello accordato ai cetnici in alcune parti della Croazia e della Bosnia e Herzegovina abitate da serbi c'erano effettivamente più cetnici che partigiani ma si trattò di situazioni eccezionali in alcuni luoghi inoltre i cetnici non esercitarono alcuna influenza all'inizio della rivolta del 41 in Croazia i cetnici generalmente non disponevano neppure di unità proprie alcuni si unirono ai partigiani individualmente o in gruppo mentre altri attessero clandestinamente lo sviluppo degli eventi solo pochi gruppi caratterizzati da un particolare attaccamento all'idea grande serba assunsero una chiara fisionomia distaccandosi dalla unità ribelli già nell'agosto e nel settembre 41 i fascisti italiani videro chiaramente che la violenza degli Ustasha stava causando disordini e problemi nel loro area di interesse così estessero il loro potere de facto alle parti meridionali del stato indipendente di Croazia zona 2 e zona 3 proteggendo così alcuni serbi dalla prosecuzione del terrore Ustasha questo portò ad un prima differenziazione nei ranghi degli insorti i cetnici e i loro simpatizzanti credevano di dover combattere solo contro gli Ustasha cooperando invece con i fascisti italiani nella difesa dei villaggi serbi mentre i partigiani a guida comunista affermavano che la loro lotta era contro tutte le forze dell'occupazione e quindi anche contro i fascisti italiani verso la fine del 41 il movimento dei cetnic prese a rafforzarsi attraverso la disarticolazione di unità partigiane in cui la maggior parte dei combattenti erano serbi questi colpi di stato di solito iniziarono con l'assassino di importanti leader partigiani comandanti e commissari politici gli antagonismi ideologici ideologici e i colpi di stato dei cetnici evolsero nell'inverno 41-42 e nella primavera del 42 nel territorio della Croazia in una guerra aperta tra cetnici e partigiani molti molti cetnici si rifugiarono nelle rocaforti dei fascisti italiani dove vennero riforniti e combatterono contro i partigiani sotto il diretto controllo dei fascisti i combattimenti contro tedeschi e italiani vennero del tutto messi da parte a partire dal 42 il movimento cetnico in Croazia prima relativamente autonomo sarà connesso più strettamente con il movimento Ravnagora di Daraja Mihailovic nell'estate del 42 le unità cetniche vennero di fatto incorporare nella macchina da guerra dei loro mecenati fascisti con il nome di milizia volontaria anticomunista le autorità del state indipendente di Croazia nonostante la versione ideologica furono costrette a riconoscere queste unità come alleate dopo la capitolazione italiana nel settembre 43 i cetnici stabilirono una cooperazione diretta con i tedeschi e attraverso di loro con gli Ustasha ciò viene giustificato con lo slogan impiegare il nemico di ora cioè occupatori e Ustasha per distruggere il nemico a lungo termine partigiani a guida comunista sul territorio dell'attuale Croazia i cetnici non sono mai stati una forza militare e politica particolarmente rilevante si ritiene ve ne fossero 5.000 nel 44 e circa 3.000 prima della fine della guerra tuttavia dal momento che queste unità hanno collaborato intensamente con i cetnici in Bosnia e Herzegovina andrebbero considerate nel loro insieme sul territorio dello Stato indipendente di Croazia si stima quindi che ci fossero circa 36 35 36 mille cetnici nel 44 e 45 nel frattempo il numero dei membri delle unità partigiane sul attuale territorio croato era in costante crescita e al fine del 44 erano 5 50 mila di partigiani in Croazia in stesso tempo il numero dei partigiani di Bosnia e Herzegovina era cresciuto e fino a di di fino a fino al di 44 era 100 mila 100 mila partigiani in Bosnia e Herzegovina quindi al fine del 44 era 250 mila partigiani sul territorio dello stato indipendente di Croazia e al fine queste cifre mostrano che nel miglior modo possibile la forza l'influenza e l'importanza dei partigiani rispetto ai cetnici grazie grazie a lei professor Goldstein per questo ampio spettro ci ha dimostrato qual era effettivamente la situazione nei territori soprattutto di Serbia Croazia e Bosnia e Herzegovina l'argomento è stato introdotto e adesso lo possiamo sviluppare ulteriormente con l'intervento del professor Eric Gobetti il quale ci parlerà dei rapporti tra lo stato fascista e di Ustasia 1929 e 1943 a lei la parola professor Gobetti grazie buongiorno a tutti e dunque beh innanzitutto vorrei ringraziare gli interventi che mi hanno preceduto perché credo che sia davvero interessante avere l'opportunità di ascoltare diciamo interventi di storici provenienti da altri paesi che quindi ci danno una prospettiva diversa su fenomeni che riguardano anche la storia del nostro paese naturalmente e quindi questo anche in una prospettiva di di riconciliazione pacifica europea nel contesto dell'Unione Europea in cui viviamo credo che sia davvero importante e quindi approfitto anche per ringraziare gli organizzatori del convegno perché appunto credo che sia davvero un'opportunità importante questa dopodiché insomma cerco di venire un po' alla alla vicenda che che vorrei raccontare che ovviamente è una vicenda complessa io ho posto come limite temporale da 1929 a 1943 perché i rapporti tra tra l'Italia e gli Ustascia cominciano appunto in maniera continuativa nel 1929 termino ovviamente con l'8 settembre del 1943 cercherò di essere il più sintetico possibile anche recuperando un po' di cose che sono già state dette su questo tema dai due interventi precedenti è una vicenda soprattutto quella che riguarda il periodo precedente alla seconda guerra mondiale direi ben poco conosciuta in Italia ma in realtà anche anche in Jugoslavia e nell'attuale Croazia non è moltissimo frequentata degli studiosi soprattutto al grande pubblico è invece una vicenda come vedremo molto molto rilevante era molto rilevante all'epoca diciamo per la politica estera fascista il rapporto con il nazionalismo croato con Giustasha in particolare ed è una vicenda significativa perché in qualche modo mostra molti aspetti della politica estera fascista nei confronti dei maricani dell'est Europa successi fallimenti e soprattutto una certa predisposizione all'uso della violenza diciamo così da parte della politica estera fascista però non va dimenticato come accennava il professor Pire vezzo prima che la politica estera fascista come dire acquisisce alcuni elementi presenti già nella politica estera dello Stato liberale quindi dello Stato postunitario in particolare proprio rispetto all'idea di espansione verso est le regioni confinati diciamo nell'est dell'Italia postunitaria sono regioni che vengono percepite dallo Stato italiano fin dalla sua unione come possibili aree di espansione territoriale sia per ragioni nazionali sono territori che vengono considerati parte di un'area culturale veneziana e quindi in qualche modo legate alla storia italiana e quindi devono essere diciamo inglobate nell'unità d'Italia per questa ragione e in qualche modo tutto l'Adriatico è percepito come una sorta di lago italiano come dirà poi la propaganda fascista per ragioni militari perché in qualche modo il controllo totale dell'Adriatico consente una maggiore sicurezza militare al fronte est dell'Italia sia per ragioni economiche perché al di là delle debolezze dell'economia italiana che sono state giustamente evidenzate prima c'è un'idea diciamo di imporre un proprio dominio economico sulle economie balcaniche che sono sicuramente percepite per lo meno come più deboli rispetto a quelle italiane e poi anche in una prospettiva che potremmo definire coloniale l'Italia all'epoca ha ben pochi possedimenti coloniali ed è molto presente nella mentalità della fine fine ottocento inizio novecento l'idea di un'espansione di tipo coloniale quindi proprio colonizzare fisicamente con abitanti di origine italiana questi territori considerati poco abitati quindi comunque con una possibilità di colonizzazione ecco in tutte queste prospettive il nemico nazionale percepito dall'Italia fino alla prima guerra mondiale è sicuramente rappresentato dalla popolazione croata che è la popolazione con la quale c'è il maggior antagonismo in quest'area pensiamo all'Istria e a tutto il territorio del nostro confine orientale ma la prospettiva cambia completamente alla fine della prima guerra mondiale come è già stato accennato con la caduta dell'impero stongarico il cambiamento di confini e la costituzione della Jugoslavia una Jugoslavia unitaria che include quindi anche popolazioni slovene croate e che in qualche modo sottrae all'Italia la possibilità di un totale dominio sull'Adriatico e di un'espansione maggiore dei confini rispetto a quella ottenuta alla fine della guerra e quindi l'Italia percepisce la Jugoslavia negli anni successivi alla prima guerra mondiale come principale nemico nazionale principale non tanto pericolo direi il nemico rispetto all'ipotesi di espansione verso est d'altra parte una parte dell'elite politica croata sicuramente una parte però significativa si trova sempre più nel corso degli anni della prima Jugoslavia cosiddetta quindi dal 18 fino al 41 si trova sempre più in contrasto con il governo Jugoslavo che è un governo di uno stato centralista serbocentrico diciamo guidato da un'elite politica serba che con difficoltà diciamo si pone nei confronti delle minoranze nazionali e ovviamente la minoranza croata è maggioritaria cioè la più significativa minoranza presente sul territorio Jugoslavo i serbi non sono comunque la maggioranza assoluta in Jugoslavia quindi il rapporto con i croati si fa sempre più più difficoltoso e i croati l'elite politica croata ma anche quella slovena che avevano sperato in uno stato federale che quindi potesse accognere appunto le diversità culturali nazionali presenti sul territorio Jugoslavo invece si trova di fronte a un'elite politica serba che nega questa possibilità e chiude quindi ha un rapporto paritario con le altre identità nazionali presenti in Jugoslavia questa difficoltà fa sì che appunto molti molti rappresentanti della politica croata si trovano ad essere come l'Italia fortemente in contrasto con lo stato jugoslavo unitario il nazionalismo croato ha diverse espressioni nel corso di questi decenni quella più significativa è sicuramente rappresentata dal partito contadino croato che è un classico partito agrario dell'epoca un partito che ha una prospettiva comunque jugoslava diciamo l'idea è quella di creare appunto un sistema federalista comunque che accolga la presenza di altre identità nazionali non solo quella serva all'interno della Jugoslavia e che è decisamente il partito appunto maggioritario nello spazio croato ma esistono anche altri partiti politici più estremisti e in particolare il partito del diritto che viene guidato da un avvocato bosniaco che è Ante Pavlic e che invece è disposto come dire o penso a un indipendentismo quindi a creare uno stato croato indipendente dalla Jugoslavia quindi separato dalla Jugoslavia ed è disposto soprattutto ad accogliere l'appoggio di potenze esterne alla Jugoslavia quindi di separarsi grazie all'aiuto economico ma anche militare di altri paesi questo fa sì che si crea un vero e proprio incontro di interessi tra il nazionalismo croato rappresentato più estremista rappresentato appunto da Ante Pavlic e altri personaggi minori e il nazionalismo italiano estremista rappresentato ovviamente all'epoca dal regime fascista questo incontro di interessi si salda diciamo così nel bienio tra il 27 e il 29 in questi due anni si crea un progressivo avvicinamento tra queste due forze che poi diventa definitivo con il colpo di Stato realizzato dal re Alessandro che è già stato nominato prima nel 1929 che di fatto chiude ogni possibilità ulteriore di dialogo politico con le altre forze politiche presenti sul territorio jugoslavo imponendo diciamo un dominio totalmente dell'elite politica serba sul paese ecco da questo momento in poi il rapporto con tra appunto il nazionalismo più estremista croato rappresentato da Pavelic e il regime fascista italiano diventa molto solido e molto duraturo perché di fatto funziona con alti e bassi fino al 1943 come vedremo ci sono tante contraddizioni in questo in questo rapporto tante tante difficoltà perché in qualche modo è un'alleanza innaturale dal punto di vista nazionalista siccome le forze che lo rappresentano sono forze espressamente nazionaliste violentemente nazionaliste è strano che si crei un rapporto così efficace tra due forze potenzialmente molto in contesto tra di loro appunto rappresentanti del nazionalismo croato e del nazionalismo italiano negli anni che seguono l'Italia porta avanti diciamo una duplice politica da una parte quella di cercare di circondare la Jugoslavia di paesi alleati con l'Italia che hanno la volontà di rivendicare territori appartenenti alla Jugoslavia e quindi sono disponibili a una distruzione dello Stato Jugoslavo in particolare Bulgaria Ungheria Austria e Albania e dall'altra favorire i separatismi interni presenti all'interno della Jugoslavia quindi favorire quelle elite politiche che sono contrarie alla Jugoslavia e che vorrebbero una separazione dei loro territori dalla Jugoslavia e quindi nei primi anni del dopoguerra soprattutto il movimento indipendentista montenegrino ma poi anche i kosovari albanesi soprattutto il movimento rivoluzionario macedone Orim e poi naturalmente appunto i nazionalisti croati questa scelta di cui parleremo adesso ecco negli anni tra il 29 e il 34 c'è una vera e propria escalation dei rapporti tra l'Italia Antepavlic Antepavlic fugge dalla Jugoslavia dopo il colpo di Stato di Alessandro e si si stabilisce definitivamente in Italia e crea un vero e proprio movimento terrorista un gruppo organizzato inizialmente composto da una trentina di persone ma che nel corso degli anni arriva a contare circa 500 aderenti sono una organizzazione terrorista con ramificazioni internazionali perché è presente in quasi tutta Europa soprattutto molto attiva in Belgio dove c'è una fortissima emigrazione croata ma anche in Germania in Austria in Ungheria in altri paesi e addirittura anche nelle Americhe sia nel nord che nel sud America anche in questo caso presso le comunità croate diciamo emigrate in quei paesi ma la leadership del movimento rimane in Italia in tutti questi anni e rimane l'unico leader riconosciuto appunto antepablich in questi anni si creano dei veri e propri campi di addestramento in Italia in varie località d'Italia e vengono portati avanti atti di terrorismo vero e proprio in Jugoslavia uccisioni di personaggi in visi agli Ustasha così viene chiamato il movimento Ustasha che vuol dire ribelle e anche il classico terrorismo nero quello che poi vedremo attivo in tutta Europa neanche in Italia in particolare in tutti gli anni anche del dopoguerro cioè dopo la seconda guerra mondiale che è il terrorismo cieco diciamo così quindi le bombe sui treni uccisioni casuali che creano proprio tensione all'interno del paese senza avere però un obiettivo politico preciso le bombe sui treni sono un classico diciamo così in questi anni del terrorismo Ustasha in Jugoslavia diciamo l'apice dell'attività terroristica di Ustasha viene raggiunto nel 1934 quando come è già stato accennato prima viene ucciso a Marsiglia durante una visita ufficiale in Francia il re Alessandro I di Jugoslavia questo è forse anche l'unico episodio diciamo in cui in tutti questi anni gli Ustasha vengono conosciuti diciamo nel mondo vengono ricordati ancora oggi dalla storiografia in maniera significativa è un episodio molto molto importante naturalmente sia per ragioni di politica internazionale che per ragioni di politica croata ma anche italiana naturalmente ed è un episodio che però ha ancora molti aspetti oscuri ancora oggi io ho studiato approfonditamente questo tema già moltissimi anni fa addirittura il mio primo lavoro di ricerca risale alla fine degli anni 90 questo studio su questa vicenda e devo dire che sebbene la storiografia abbia giustamente evidenziato i rapporti esistenti ormai da tanti anni tra il regime fascista e gli Ustrasia e quindi l'aiuto dato al movimento terrorista croato e quindi diciamo dimostrato in maniera inequivocabile che c'era una volontà da parte del regime fascista diciamo di favorire questo genere di attentati da parte degli Ustrasia non è chiaro però se davvero il regime fascista volesse quell'attentato in quel momento è significativo il fatto che nelle mesi precedenti l'Italia stesse cercando un accordo politico con la Francia e con la Jugoslavia in funzione antiteresca perché temeva l'avanzata della Germania subito dopo l'arrivo al potere di 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 in Germania e quindi è probabile che l'attentato di Marsiglia non sia stato in realtà voluto dal regime fascista ma che invece gli Ustrasia l'abbiano compiuto proprio in qualche modo per mettere in difficoltà la diplomazia fascista e impedire che come dire si accordassero la Jugoslavia abbandonando a suo destino appunto gli Ustrasia stessi da le fonti sono sono molto deboli su questo tema come ho già accennato una delle fonti principali è quella diciamo sono i documenti del del poliziotto dell'ispettore di polizia che si occupava della gestione degli Ustrasia in Italia in questi anni ed è molto interessante il fatto che questo l'ispettore rimane completamente stupito dall'attentato e appunto le prime le prime relazioni immediatamente dopo l'attentato sono di stupore e quindi in qualche modo ecco non era informato non ne sapeva nulla beh è anche significativo ovviamente che la reazione successiva da parte del governo fascista che è quella di diciamo smobilitare la struttura degli Ustrasia in Italia gli Ustrasia vengono tutti quanti confinati a Lipari sull'isola di Lipari un classico luogo di confino dell'Italia fascista e lo stesso Pavlic viene arrestato e trattenuto in carcere a Torino per un anno e mezzo non viene estradato in Francia dove c'è un processo ovviamente sull'attentato le responsabilità degli Ustrasia vengono appurate senza un buon dubbio Pavlic viene condannato morto in contomacia l'Italia fascista ovviamente non dà l'autorizzazione dell'estradizione per evitare di essere coinvolta direttamente nella responsabilità dell'attentato ma comunque diciamo la punizione nei confronti di Pavlic è evidente diventa ancora più evidente negli anni che seguono dal 37 dopo l'accordo che è stato nominato prima tra Ciano Vestoria Dinovic che porta a una vera e propria alleanza tra l'Italia e la Jugoslavia che dura fino al 1939 ecco da questo momento in poi la struttura degli Ustrasia viene completamente smobilitata addirittura la polizia jugoslava ha l'incarico di occuparsi di smobilitare gli Ustrasia in Italia e rimpatriare quasi forzatamente gran parte di questi 500 Ustrasia che nel frattempo si erano costituiti in Italia rimangono praticamente soltanto i leader negli anni precedenti negli anni successivi in Italia è interessante capire anche chi sono di fatto questi Ustrasia prima della seconda guerra mondiale l'immagine degli Ustrasia che si ha nell'astronografia ma anche nell'immaginario comune è legata ovviamente a quello che il governo Ustrasia realizza durante la guerra durante la seconda guerra mondiale in Croazia e in particolare direi soprattutto il genocidio nei confronti della popolazione serba dello stato indipendente croato e lo sterminio di gran parte dei rom e degli ebrei durante appunto il governo Ustrasia studiando profonditamente questi temi l'idea che mi sono fatto è che gli Ustrasia fossero essenzialmente un movimento estremamente nazionalista con obiettivi appunto indipendentisti in questo non erano molto differenti da altri partiti politici presenti nell'aspetto politico croato ad esempio lo stesso partito contadino croato che aveva sostanzialmente obiettivi molto simili ciò che differenziava però gli Ustrasia era sicuramente la disposizione all'uso della violenza politica sia nel senso del terrorismo sia nel senso dell'uccisione del tiranno diciamo così secondo una tradizione di tipo anarchico ma anche presente nel territorio balcanico negli anni precedenti pensiamo all'assassinio di Sarajevo di Francesco Ferdinando Sarajevo nel 1914 in fondo vent'anni prima dell'assassinio di Alessandro a Marsiglia poi c'è sicuramente ci sono sicuramente alcuni aspetti che evidenziano una vicinanza diciamo degli ideali Ustrasia con il fascismo in particolare col fascismo italiano anche se appunto non mi sentirei di assimilare del tutto gli Ustrasia al modello politico fascista uno di questi è sicuramente il culto il capo cioè l'idea che ci sia un unico leader del movimento a cui si deve abbadienza assoluta sicuramente un elemento che è molto presente negli Ustrasia Paveli ci viene definito Poglavnik che è l'equivalente di Duce fin dall'inizio della sua carriera diciamo da quando arriva in Italia sostanzialmente ed è evidente l'ammirazione che lui stesso prova per Mussolini per il Duce però va anche detto che questo questo elemento del culto del capo non è strettamente legato al modello fascista direi più una è più figlio dell'epoca se vogliamo così se vogliamo dire così ecco e riguarda molti molti movimenti politici in Europa in quegli anni un altro elemento che sicuramente non è esclusivamente fascista è quello dell'anticomunismo l'anticomunismo molto presente negli ideali politici degli Ustacia già negli anni precedenti alla guerra diventa poi ovviamente uno degli elementi fondamentali nella guerra contro la resistenza durante gli anni della guerra direi che l'anticomunismo Ustacia è però molto legato di nuovo all'idea alla logica nazionale nazionalista il comunismo è internazionalista e quindi in qualche modo è percepito come antinazionale mentre invece appunto gli Ustacia rappresentano ideali fortemente nazionalisti e poi c'è anche un aspetto diciamo così di classe che noi spesso dimentichiamo perché viviamo in un'epoca diversa ma era sicuramente rilevante all'epoca in qualche modo come altri movimenti fascisti dell'epoca gli Ustacia rappresentano da una parte la classe media ma anche diciamo la classe aristocratica ad esempio della che ovviamente è molto minoritaria ma comunque ha una rilevanza nello spazio croato a cui si lega il sottoparietariato quindi la forza la mano d'opera diciamo così del terrorismo Ustacia è composta soprattutto appunto da da croati molto poveri provenienti da azioni più povere dello spazio croato quindi dall'Elfe Govina dall'interno della Dalmatia che sono espatriati per ragioni di lavoro soprattutto appunto in Belgio come ci andavo prima e che rappresentano anche qua di nuovo la classica forza lavoro diciamo così tipica dei movimenti fascisti dell'epoca e poi un altro aspetto che direi fondamentale per quello che accadrà dopo che è l'antisemitismo e questo e su questo è molto interessante notare come fino a 1941 fino alla presa del potere gli Ustasha non hanno non esprimono nessun tipo di sentimento antisemita anche dopo il 38 anche dopo le leggi razziali tant'è che all'interno del gruppo dei leader degli Ustasha in Italia in quegli anni ci sono diversi ebrei e soltanto dopo il 41 invece diventa prevalente e infatti la comunità ebraica dello Stato indipendente croata viene completamente esterminata nel corso della guerra e gli stessi Ustasha ebrei finiranno poi nei lager costituiti nello Stato indipendente croato si è stata raccontata prima molto molto bene come si arriva alla guerra in Jugoslavia nel 41 vale la pena notare che sebbene l'Italia avesse con Pavlic stabilito un piano di azione per creare uno Stato croato indipendente per distruggere la Jugoslavia e creare uno Stato croato indipendente che si ponesse sotto il controllo dell'Italia fin dal 1927 c'era un piano di questo tipo e questo piano viene realizzato in maniera praticamente identica nel 1941 viene applicato sostanzialmente il piano scritto nel 1927 ma in un contesto completamente diverso in un contesto in cui l'Italia non è più non è più prevalente dei Balcani non ha una una presenza significativa e anzi è la Germania che sta dominando in quei territori ed è la Germania che provoca la caduta della Jugoslavia militarmente che invade la Jugoslavia ne provoca la caduta e occupa la stessa città di Zagabria e quindi sono i tedeschi che creano lo Stato indipendente croato sostanzialmente peraltro non affinandosi direttamente a Giustice almeno inizialmente nel momento in cui i tedeschi entrano a Zagabria il 10 aprile del 1941 quindi durante le prime operazioni militari dell'invasione della Jugoslavia è stato accennato prima la Jugoslavia viene invasa il 6 aprile quindi solo quattro giorni dopo i tedeschi arrivano a Zagabria non si rivolgono a Pavlic che peraltro è ancora in Italia ma nemmeno agli altri Ustace presenti a Zagabria bensì al leader del partito contadino croato quel partito che dicevo era maggioritario in Croazia proprio perché pensano di trovare maggior appoggio maggior consenso attraverso il partito che è dominante sulla sfera politica croata ma Macek che il leader del partito croato si rifiuta e a quel punto i tedeschi ripiegano su Ustasha e accettano diciamo la presenza di Pavlic come leader anche se evidentemente Pavlic è un uomo del fascismo è un uomo dell'Italia fascista ma come vedremo e qua diciamo arrivo rapidamente alla chiusura negli anni successivi negli anni del governo del governo Ustasha quindi dal 41 fino al 43 quando poi l'Italia sparirà diciamo da questo come come presenza in politica militare da questo scenario il rapporto tra l'Italia fascista e il governo Ustasha è molto difficoltoso è molto difficoltoso perché in qualche modo vengono al pettine tutti i nodi di quella di quell'alleanza artificiosa che si era creata appunto tra il nazionalismo croato e il nazionalismo italiano e quindi tra il fascismo e gli Ustasha sostanzialmente quali sono questi nodi? beh prima di tutto la questione dei confini naturalmente diciamo il nazionalismo croato e il nazionalismo italiano rivendicano in gran parte gli stessi territori di confine quindi la Dalmazia l'Istria chiaramente l'Istria era già parte dell'Italia da prima la Dalmazia viene quasi tutta annessa all'Italia nel maggio con gli accordi del maggio del 41 creando fortissime tensioni all'interno dello stato croato e mettendo in serie difficoltà publici con i suoi stessi con i suoi stessi Ustasha in secondo luogo il concetto di indipendenza questo stato viene chiamato stato indipendente croato ufficialmente ma di indipendente ha veramente molto poco l'Italia ha in mente di adottare quello che la politica fascista definisce il modello albanese l'Albania è stata invasa occupata dall'Italia nel 39 ed è parte dello stato italiano sostanzialmente anche se nominalmente uno stato indipendente che ha un re italiano che è Vittorio annuele ed è quindi che quindi re di Italia e re d'Albania e l'autonomia del governo albanese è quasi inesistente ecco il modello sarebbe questo ma non viene non viene realizzato perché la Colazia cerca di mantenere un minimo di autonomia sostanzialmente appoggiano sia la Germania che è dominante prevalente da un punto di vista militare ma anche economico e politico e quindi in qualche modo sfruttando la concorrenza tra i due alleati tra l'Italia e la Germania l'Italia impone alla Colazia un re italiano un re Savoia che di fatto non metterà mai piedi in Croazia non diventerà mai non verrà mai realmente nominato re di Croazia l'unico diciamo l'unico aspetto in cui lo stato croato è davvero indipendente è il tentativo di creare uno stato etnicamente puro quindi quello diciamo la politica della pulizia etnica l'ho già detto prima è forse l'elemento più rilevante della storia dello stato croato nei quattro anni in cui gli Ustascia governano la Croazia e appunto questo tentativo di creare uno stato etnicamente puro in un contesto in cui i croati come nazionalità a sé stante rappresentano poco più del 50% della popolazione siccome lo stato croato include anche tutta la Bosnia Brigovina c'è una percentuale di popolazione significativa composta da musulmani che vengono comunque riconosciuti come croati di religione diversa ma soprattutto c'è una presenza di circa il 30% di popolazione serba verso i serbi così così come verso i Rom e gli Ebrei viene attuata subito una politica di eliminazione sostanzialmente i serbi devono sparire dal territorio o andandosene e quindi spingendoli alla fuga o costringendoli a convertirsi al cattolicesimo quindi diventando croati cosa che non viene comunque concessa a tutti oppure con lo sterminio vero e proprio attraverso anche la creazione dell'unico campo di sterminio presente sul territorio europeo che non sia gestito direttamente dai nazisti cioè il campo di Gjasenovac che appunto è in Croazia ed è un campo Ustascia con l'intento preciso di sterminare la popolazione la popolazione serba nel territorio sono circa 300.000 i serbi che vengono sterminati in questo modo dagli Ustascia durante la guerra è interessante e qua chiudo come proprio quelle stragi proprio questa politica di sterminio producono una ribellione da parte dei sopravvissuti allo sterminio quindi delle popolazioni serbe che riescono a sfuggire allo sterminio che in parte diventeranno poi partigiani in parte diventeranno cettici come è stato accennato prima ma che di fatto creano una situazione di instabilità che porta a un intervento militare italiano che di fatto occupa circa metà del territorio dello Stato croato militarmente proprio a partire dall'autunno del 1941 e quindi in qualche modo da questo momento in poi i rapporti tra l'Italia fascista e lo Stato Ustascia diventano ancora più tesi e ancora più complicati la questione dei confini diventa a quel punto irrilevante perché l'Italia di fatto occupa militarmente gran parte del territorio anzi diciamo una cerca metà del territorio croato l'Italia si mantiene diciamo un'alleanza militare con la Croazia ma di fatto si allea anche militarmente con i ribelli serbi favorendo quindi in qualche modo la creazione di quel movimento cetnico che è stato nominato prima armando e costituendo appunto bande militari cetniche al servizio degli italiani e in qualche modo arriva anche a impedire fisicamente lo sterminio della popolazione serba da parte dei croati quindi quell'unico elemento di autonomia espresso dallo Stato croato che era l'obiettivo di creare uno Stato politicamente scusate etnicamente puro e di sterminare la popolazione non croata viene impedito fisicamente dalle truppe italiane che danno diciamo consentono la sopravvivenza di una parte di popolazione serba che si diffugia sotto nelle zone sotto il controllo sotto il controllo italiano e quindi appunto i rapporti tra Etrania e Croazia rimangono tesi per tutto per tutto il resto della guerra fino all'8 settembre alle 43 e tutto quello che ne conseguirà grazie buon pomeriggio grazie grazie professor Gobetti per questa diciamo carellata che parte appunto dalla Costituzione in termini partitici politici dell'Eustacia fino a poi a dopo il 41 diventare addirittura forza di governo forza di repressione forza alleata dei nasifascisti bene una delle delle questioni dei fatti più tragici e poco descritti di cui poco si parla della della guerra di Jugoslavia dell'invasione di Jugoslavia è proprio la Costituzione dei campi di concentramento un argomento di cui se ne parla poco di cui poco si sa ma di cui il professor Carlo Spartaco Capogreco è un grande esperto perché è stato uno dei primi se non il primo addirittura a fare una ricerca specifica sui campi di concentramento fascisti per civili per civili sloveni in Italia quindi la parola al professor Carlo Spartaco Capogreco che ci parlerà appunto dei campi di concentramento italiani per civili Jugoslavi a lei professore ha attivato il microfono ha attivato il microfono professore pronto bene mi sentite adesso perfetto allora grazie volevo dire che già su questo termine campi di concentramento conviene fare una piccola premessa perché trattandosi di campi di concentramento italiani l'Italia durante la seconda guerra mondiale di cui ci stiamo periodo di cui ci stiamo occupando chiamò con il termine campo di concentramento tutte quante le strutture utilizzate per l'internamento di civili però vi erano delle differenze notevoli perché non corrispondono affatto le condizioni di vita presenti nei campi di cui ora vi parlerò cioè campi per civili iugoslavi o campi per slavi come venivano detti anche un po' spregiativamente dal fascismo non vi era corrispondenza tra questa tipologia di campi e la tipologia di campi che invece l'Italia aveva attivato e fatto funzionare già con l'entrata in guerra nel giugno del 1940 campi in quel caso che erano gestiti dal ministero dell'interno e che consentivano avevano diciamo così dei requisiti minimi di vivibilità vi era il controllo per esempio della Croce Rossa gli internati indigenti potevano ricevere un sussidio statale dalla stessa organizzazione del campo potevano ricevere dei pacchi viveri essere aiutati per esempio i sudditi nemici dai propri stati e quindi una situazione totalmente diversa da quella dei campi destinati agli internati civili jugoslavi dove spesso gli internati erano costretti a una lotta disperata per accaperrarsi un po' di cibo e per garantire la propria sopravvivenza non avevano un sussidio non erano visitati e quindi aiutati dalla Croce Rossa e praticamente possiamo dire che si trattava di un internamento sostanzialmente fuori legge o comunque fuori dalla legge perché è la stessa cosa era legato quindi questo internamento ad una guerra di aggressione di cui abbiamo già sentito bene dal professor Pirjevez in cui il lo spregio diciamo delle condizioni del rispetto della legge di guerra si era visto già dall'inizio perché era iniziata senza una dichiarazione e quindi in questa situazione potremmo distinguere quelle azioni che comunque fino a tutto il 1941 anche a parte del 42 aveva da parte dell'esercito italiano e dell'occupante italiano in genero degli obiettivi politico-militari comunque diciamo così giustificabili per quel tipo di guerra e quanto invece avvenne dopo la metà del 1942 e in particolare appunto dopo la sollevazione e la creazione del fronte di liberazione quando fu decisa dall'Italia una vera e propria strategia del terrore verso le popolazioni civili strategia che aveva come proprio perno fondamentale la creazione e la gestione dei campi di concentramento specifici ecco le nuove direttive impartite allora dagli alti comandi investite da un ben preciso inserite scusate in un ben preciso quadro ideologico di tipo antislavo prevedevano prevedevano l'utilizzo di metodi molto simili a quelli applicati dai nazisti sul fronte orientale e cioè l'incendio di villaggi la fucilazione di ostaggi e la deportazione in massa di civili nei suddetti campi di concentramento con l'obiettivo principale perché non era il solo come vedremo di creare il vuoto attorno al movimento partigiano la posizione sostanzialmente extra legge di cui vi parlavo ebbe ripercussioni pesantissime per gli abitanti della Jugoslavia che furono definiti in blocco cittadini italiani per diritto di annessione e di conseguenza privati dello status di sudditi nemici che almeno avrebbe consentito loro di ricevere l'aiuto del proprio governo in esilio e delle organizzazioni assistenziali internazionali soltanto nell'agosto del 1943 nel quadro della cauta apertura dimostrata in merito dal governo Badoglio il Ministero degli Affari Esteri italiani consentì alla Croce Rossa internazionale di dare una qualche assistenza ai civili jugoslavi internati dall'Italia a condizione però che si trattasse di interventi a carattere umanitario che non modificassero la loro posizione giuridica di fu quindi in tal senso una lineare continuità tra il regime fascista e quello badogliano e il governo badogliano visto che i campi non vennero chiusi dopo il 25 luglio ma solo e inevitabilmente aggiungiamo noi dopo l'8 settembre a causa della fuga in massa degli internati o degli stessi addetti alla sorveglianza solo alcuni gruppi in verità di internati erano stati rilasciati prima della caduta del regime o trasferiti in campi dalle condizioni meno drammatiche grazie alle pressioni della chiesa o per decisione dei comandi militari italiani non si ebbe quindi quella liberazione generalizzata che gli slavi internati attendevano in verità alla caduta del fascismo anzi in alcuni casi la smobilitazione dei campi avvenne con un ritardo tale da permettere la cattura degli internati da parte dei nazisti va ricordato tuttavia anche se in questa occasione per ovvie ragioni di tempo non entrerò nel merito che nei Balcani circa 2000 ebrei se non più furono oggettivamente messi in salvo dall'esercito italiano grazie soprattutto ad un internamento di tipo protettivo Don Pietro Brignoli un cappellano militare al seguito del reggio esercito che nel maggio dal maggio 41 al novembre 42 operò nella zona di Cocevie in Slovenia annotava nel suo diario di un ufficiale italiano che nel corso di un'operazione sentenziava che riporto tra virgolette per il bene dell'umanità e perché di razza inferiore si dovessero distruggere gli abitanti della regione ed ipritare tra virgolette ad operare l'iprite ipritare l'intera zona questa breve citazione è testimonianza di un'occupazione italiana violenta ad impronta razzista razzistica che non escluse appunto pesanti rappresaglie quali quelle che abbiamo già citato con l'incendio dei villaggi e addirittura anche la frequente fucilazione di ostaggi mantenuti tali nei campi di internamento per internare gli abitanti delle zone annesse senza escludere del tutto attenzione il ricorso al confino di polizia e ai normali campi di concentramento di cui parlavo prima quelli allestiti e gestiti dal ministero dell'interno dal giugno 1940 gli italiani utilizzarono preferibilmente una speciale rete di campi di concentramento gestiti dall'autorità militare e dislocati sia sul posto in Jugoslavia sul territorio occupato che in Italia e in Albania tali strutture a partire da quella delle maggiori dimensioni situata sulla ormai abbastanza nota isola di Arbe abbastanza nota ai fini dell'internamento perché sotto il profilo turistico Arbe era già nota in precedenza rappresentarono questi campi l'ossatura portante di un internamento civile che io ho definito per comodità parallelo nel senso parallelo a quello gestito dal ministero dell'interno un internamento condotto soprattutto con rastrellamenti su vasta scala e volto a fare piazza pulita delle popolazioni di intere zone abitate pratiche queste che venivano eseguite generalmente in palese violazione del diritto internazionale e riguardarono talvolta anche i militari di carriera dell'ex esercito jugoslavo trattati quindi come privati dalle garanzie previste loro dalla convenzione sulla prigionia di guerra e trattati quindi da internati civili gli internamenti massivi oltre ad essere finalizzati a contenere la guerra partigiana anti italiana bloccando preventivamente quanti avrebbero potuto aiutare o aderire alla resistenza in alcune aree e per alcuni periodi perseguirono verosimilmente anche il vecchio progetto fascista della sbalcanizzazione o della deslavizzazione del territorio un disegno che possiamo definire tranquillamente oggi di pulizia etnica che nella porzione di Slovenia annessa al Regno d'Italia come provincia di Ljubljana la Slovenia meridionale partire e compresa la città di Ljubljana sembrò potersi realizzare attraverso la sostituzione delle popolazioni autoctone con coloni italiani provenienti dalle più remote regioni della penisola anche nel fiumano vennero intraprese misure concrete volte ad un insediamento di popolazione italiana al posto degli slavi che venivano deportati e questo in comitanza con le grandi operazioni militari dell'estate 1942 del resto quello della colonizzazione intesa come insediamento di coloni supportata dalla mappatura etnico dalla verifica dal censimento della popolazione dalla mappatura etnico-raziare del territorio e dalla cancellazione dell'identità nazionale e dal trasferimento e internamento delle popolazioni fu uno dei capisaldi della politica di italianizzazione che venne avviata nelle che venne avviata nelle nuove province e questa politica per passare alla Dalmazia in Dalmazia questa politica l'Italia la attuò e ipotizzò in un primo tempo seppure poi non riuscì a portarla a termine anche per perché il proprio predominio in quella zona andrò a terminare abbastanza presto ma ipotizzò dicevo di liberarsi anche degli ebrei locali e dei serbi sostituendoli o trasferendoli internandoli altrove in Slovenia mentre i tedeschi e gli ungheresi sappiamo benissimo che la Slovenia era stata divisa in tre porzioni mentre questi occupanti cioè i tedeschi e gli ungheresi usarono immediatamente per la gran parte il pugno di ferro gli italiani inizialmente scelsero una politica di repressione e di italianizzazione relativamente morbida in contrasto invece con il trattamento duro che da decenni avevano riservato gli italiani stessi alla minoranza slovene croata residente nella Venezia Giulia ma tutto cambiò non appena il fronte di liberazione promosse l'insurrezione armata e di questo ci danno conto le parole pronunciate da Benito Mussolini nel luglio del 1942 a Gorizia ad un celebre summit con i massimi comandanti militari dove disse Mussolini stesso sono convinto che al terrore dei partigiani si deve rispondere con il ferro e il fuoco da lì in avanti infatti il reggio esercito sottopose il territorio ad un'azione militare che in base al giudizio del comandante partigiano cattolico Edvard Kotzbeck fu la più feroce subita dalla Slovenia dai tempi delle occupazioni ottomane dalla provincia di Ljubljana la grande offensiva antipartigiana si estese poi ben presto al Goski Kotar l'ampia area croata che fu accorpata alla provincia del Quarnero all'area di Fiume e dalla quale proveniva il grosso dei civili che poi vennero internati sull'isola di Arbe in Montenegro invece fin dal 1941 in risposta alla rivolta popolare i vertici militari avevano emanato bandi e normative sull'avvio dei civili nei campi di concentramento ma il più voluminoso e dettagliato corpo di disposizioni sull'internamento civile soprattutto dell'internamento civile manu militari di cui noi oggi disponiamo è concentrato nella si trova nella cosiddetta circolare 3C emanata il primo marzo 1942 dal generale Mario Roatta al vertice della seconda armata dal mese precedente sì le immagini che vedete sono dei bambini sloveni internati nel campo di Arbe ed internati adulti nella baracca del campo di concentramento italiano di Gonars proseguo il discorso poi magari se volete possiamo passare sulla sulla mappa dei campi dicevo in questa circolare ci sono le maggiori normative sulla sull'internamento di questo tipo mentre ulteriori direttive vennero fornite successivamente da un'altra circolare la 3CL nonché da disposizioni sporadiche emanate non solo dalle forze armate in base ad esse ad essere internati sarebbero stati soprattutto funzionari civili studenti professori soggetti che avevano fatto parte di bandi armate parenti di fuggiaschi dei ribelli e tutti i civili sospettati di attività in anti italiana il riferimento al sesso e all'età le prime disposizioni facevano riferimento quasi esclusivamente ai maschi dai 16 ai 60 anni ben presto però il provvedimento sarebbe stato esteso anche a donne e bambini nel quadro di rastrellamento di interi gruppi sociali potenzialmente pericolosi oltre all'internamento repressivo va citato seppure velocemente che si fu anche l'internamento cosiddetto protettivo che ricordava popolazioni che magari si sentivano minacciate dalla resistenza oppure che avevano dei precedenti di complicità diciamo con gli antifascisti e quindi temevano l'avanzare delle forze partigiane comunque i campi di concentramento per civili iugoslavi ecco detto in generale si può si caratterizzarono per le difficilissime condizioni di vita e per la condizione di fame endemica che portò a morte e quindi ad uno sterminio lento e continuativo soprattutto in alcuni campi come quello di Arbe già nominato e quello di Melada sull'isola di Molat portò a morte molti moltissime centinaia di internati logico ed opportuno che campo di concentramento non significhi campo di internamento osservava il generale Gastone Gambara il 17 dicembre 1942 il quale generale aggiungeva individuo malato uguale individuo tranquillo e da queste brevi frasi di Gambara si comprende forse ancora meglio che da un'articolata relazione la logica che sottendeva ai protocolli alimentari adottati dagli italiani nei loro campi di concentramento per civili jugoslavi logica che evidentemente considerava lo sfinimento per fame degli internati come una utile opportunità ad Arbe la fame e la denutrizione sono state tremende il vitto era orribile le morti dovute a più svariate patologie erano all'ordine del giorno in alcuni periodi dell'autunno del 1942 e nel dicembre del 1942 dopo aver visitato un gruppo di internati appena rilasciati il medico provinciale di Lubiana refertava in questi termini dimagrimento patologico con assoluta scomparsa dell'adipe persino dal cavo orbitario ipotonia ipotrofia grave di muscoli edemi da fame degli arti inferiori emeralopia intolleranza alimentare e intossicazione febbrile quanto al vitto le relative tabelle ufficiali dell'esercito che nella realtà raramente venivano poi rispettate prevedevano per gli internati repressivi 877 calorie giornaliere e per i protettivi 1030 razioni che come ammetteva talvolta lo stesso personale dell'esercito italiano rispetto al fabbisogno minimo di un individuo a riposo difettavano rispettivamente di almeno 1900 calorie ancor di più delle malattie quindi sono state la fame e la denutrizione del responsabile della grande moria avutasi ad Arben in quell'autunno del 1942 e che e che così portò in quel campo di concentramento tassi di mortalità che seppure per un breve periodo raggiunsero il livello del 19% superando così quelli consueti dei lager nazisti non di sterminio ad Arben per fame e pestenti persero la vita non meno di 1435 civili se vogliamo attenerci ai nomi ben chiari ed identificati il numero degli internati passati per il campo per la maggior parte sloveni si è attestato sulle circa 11.000 unità con un picco di massima presenza di circa 6570 avutosi nel dicembre del 1942 complessivamente ad essere internati dall'Italia furono non meno di 100.000 civili jugoslavi tra sloveni e ricordo qui che fu deportato il 10% della popolazione slovena croati e montenegrini nei territori jugoslati vi occupati ecco se mi passate un attimo di nuovo la cartina dei campi possiamo vedere insieme la loro ubicazione ecco i principali campi dei territori occupati erano il campo di Arbe di cui abbiamo parlato qui sull'isola omonima il campo di Melada nell'arcipelago Zaratino per la parte centrale diciamo della Dalmazia e l'accoppiata Priulaca e Mamula due campi separati ma molto vicini che agivano sotto lo stesso comando per la zona meridionale e le bocche di Cattaro quindi campi italiani per civili i jugoslavi non significa come potete vedere semplicemente campi sul territorio poi ci sono sul territorio occupato tutta una serie di campi minori che potete leggere anche autonomamente alcuni campi di breve transito anche di una certa però consistenza numerica come per esempio il campo di Slarin ma poi anche dei campi di lavoro per esempio che sono indicati con il triangolo vuoto all'interno ma di questi campi che la cartina vi fa vedere devo dire che alcuni sono riservati in particolare quelli sul territorio della penisola quindi al di là del confine sono riservati ai cosiddetti allogeni cioè alle minoranze slave italiane grovene croate soprattutto che il fascismo anche con termine dispregiativo chiamava allogene e per i quali aveva costituito dei campi appositi il più importante dei quali era quello di Cairo Montenotte nella Liguria ma anche quello di Fossalon per esempio nel nel Friuli altri campi sono importanti in Italia quelli di Gonars ovviamente ben noto quello di Monigo altrettanto adesso grazie agli studi di Francesca Meneghetti al campo di Renicci al campo di Pietrafitta al campo di Colfiorito al campo di Ruscio Pietrafitta e Ruscio come potete vedere sono campi di lavoro ecco la situazione generale è questa mancano però all'ultimo momento mi è mancata non sono riuscito a rintracciare la cartina mancano qui però i campi che come vi ho detto venivano erano stati allestiti venivano utilizzati anche i campi del Montenegro in particolare il campo di Bar e dell'Albania in particolare i campi di Cavaglia e di Kukes questo era la localizzazione geografica durante finita la guerra l'apposita commissione delle Nazioni Unite aveva segnalato all'Italia un centinaio di presunti criminali di guerra molti dei quali tra questi nomi avevano avuto responsabilità nell'allestimento e nella gestione dei campi di concentramento in Jugoslavia di cui stiamo parlando ai governi italiani pur avendo istituito una commissione di inchiesta che individuò una quarantina di colpevoli tra i cento nominativi individuati dall'ONU fecero di tutto per evitare una loro condanna da parte della magistratura militare che avrebbe dovuto processarli allo scopo venne evocato soprattutto l'articolo 165 del codice militare di guerra che prevedeva la punibilità dei crimini in questione ma solo a condizione che la Jugoslavia avesse processato a sua volta i colpevoli di alti crimini e qui ci si riferiva specialmente ai fatti legati alle foibe ma in anni quelli che erano ormai della guerra fredda ovviamente la realizzazione di una tale reciprocità di comportamento era oggettivamente impensabile cosicché nel 1951 quei processi vennero tutti ormai bloccati definitivamente possiamo dire e bloccati per così dire la norma di legge e questo elemento cioè l'assenza di una dimensione giudiziaria della questione oltre spesso ad un ritardo frequente anche della dimensione storiografica contribuì non poco alla rimozione dell'aspetto criminale del fascismo e dell'occupazione dell'occupazione della Jugoslavia ma anche più in generale alla rimozione del passato italiano dittatoriale e coloniale grazie grazie al professor Spartaco Capogreco per questa chiarissima illustrazione sulla dislocazione oltre che sulle funzioni che ebbero i campi di concentramento italiani per civili jugoslavi ora la parola passa alla professoressa Anna di Gian Antonio che si parlerà di un argomento decisamente legato alla guerra in Jugoslavia al movimento di liberazione e alla interazione tra i due movimenti della resistenza jugoslava e resistenza italiana il titolo infatti della sua relazione è il movimento operaio triestino nella resistenza quindi a te Anna io direi ci stiamo allontanando parecchio dalle previsioni di tempi di questo convegno quindi cercherei di essere il più sintetico se possibile logicamente e mantenersi nei tempi che avevamo segnato grazie a te Anna vai vai mi vedete sentite si si ti sentiamo benissimo allora io starò rigidamente nei tempi però permettetemi però prima di ringraziare Dino Spangaro e Gianfranco Pagliolo per il loro invito quindi sinteticamente intervistato sulla sua esperienza nella resistenza nella Venezia Giulia l'ex litorale austriaco terra da secoli sotto il dominio dell'impero austro-ungarico abitata da popolazioni latine germaniche e slave quindi con identità nazionali miste a causa di matrimoni e delle parentele Giuseppe Beppi Lorenzon il partigiano Iose cerca di spiegare quali fossero i rapporti tra italiani e sloveni nel periodo 43-45 e a quali direttive i partigiani conformassero le loro azioni se a quelle degli antifascisti italiani o a quelle degli sloveni Lorenzon afferma non c'era una sola direttiva ma tante e molte iniziative personali che erano nate per un orientamento generale per cui il movimento non era né spontaneo né organizzato è una cosa un po' difficile da spiegare però la gente non si tirava indietro cercava di fare qualcosa tutto nasceva dall'esigenza di fare qualcosa nelle parole di Iose troviamo molte indicazioni per comprendere cosa fu la resistenza e come si arrivò alla prima battaglia partigiana d'Italia la battaglia di Gorizia combattuta dagli operai e dalle operai e delle fabbriche del territorio dall'8 al 30 settembre 1943 frutto come racconta Iose di un orientamento generale cioè di desideri di liberazione del fascismo e di volontà di giustizia sociale molte furono elezioni militari delle formazioni partigiane durante il biennio 43-45 ma la battaglia di Gorizia è emblematica della situazione politica chiestina e monfalconese e rappresenta uno dei momenti in cui la collaborazione spesso problematica tra partigiani italiani e sloveni fu massima la battaglia come ci ricorda Luciano Patat nacque dal tentativo di contrastare la penetrazione tedesca dopo l'8 settembre centinaia di lavoratori interlis la tuta blu degli operai della fabbrica tentarono con determinazione di fermare l'operazione Alarico che prevedeva l'occupazione e il controllo delle vie di comunicazioni stradali e ferroviarie fra l'Italia e la Germania da parte dei tedeschi preludio all'annessione del territorio come Adriatisch-Küstenland la penetrazione tedesca era già iniziata nell'agosto del 43 dopo l'accaduto di Mussolini nei giorni successivi in un ampio territorio nei pressi di Gorizia vi erano già circa 2500 militari tedeschi pronti ad occupare la città il 6 settembre il generale della 24esima armata Licurgo Zannini convocò a Udine i comandanti delle formazioni schierate nelle zone di confine e ordinò di costruire degli sbargamenti all'avanzata nazista a causa della reazione italiana i piani di occupazione tedesca di Gorizia furono rinviati al 12 settembre intanto al cantiere navale di Monfalcone il 10 settembre dopo le manifestazioni di giubilo alla notizia dell'armistizio e dopo che il giorno prima un imponente corteo spontaneo aveva chiesto al presidio militare la distribuzione di armi Ferdinando Marega operaio del cantiere tenne un comizio in cui invitò i lavoratori a salire sul carso a unirsi ai partigiani sloveni e a combattere contro i tedeschi a Sels un borgone presse di Ronchi si radunarono circa un migliaio di volontari uomini e donne si mossero in realtà 7-800 persone alcune furono mandate a casa perché troppo giovani o per la mancanza di armi da Sels i lavoratori proseguirono per Dobardò un paesino sloveno nei pressi di Monfalcone e da lì si incamminarono verso Villa Montevecchio dove era situato il comando partigiano sloveno e il consiglio di liberazione nazionale per il litorale nella sera tra il 10 e l'11 di settembre si tenne una riunione tra gli esponenti partigiani sloveni e quelli che furono i dirigenti della battaglia Ferdinando Marega Osteglio Modesti Camillo Donda Vinicio Fontanot Giovanni Caligaris Giordano Tomasic Argo Tambarin con i fratelli Elio e Augusto qual'era la biografia di alcuni di questi militanti italiani il più vecchio del gruppo era Camillo Donda del 1894 il più giovane Argo Tambarin del 1925 erano tutti operai tranne Modesti che faceva il panettiere Argo Tambarin studente e il fratello Augusto venditore ambulante gli altri erano nati nei primi anni del 1900 e avevano provato da piccolissimi le dure conseguenze della prima guerra mondiale lo sfacelo economico sociale all'indomani della fine della guerra e del ritorno dei profughi e dei superstiti a casa le loro storie sono emblematiche della formazione politica di quei lavoratori Vinicio Fontano del 1913 era emigrato con la famiglia nei primi anni venti quando le lotte e gli scioperi di quegli anni per la sua famiglia chiusero definitivamente le porte della fabbrica visse in Francia Lussemburgo Vienna e infine in Bulgaria da cui una parte della famiglia tornò a Ronchi alla metà degli anni trenta Ferdinando Marega del 1906 aveva subito un primo arresto nel 1927 nel 29 era espatriato clandestinamente e aveva anche lui raggiunto il Lussemburgo la Francia e poi l'Unione Sovietica dove aveva frequentato la scuola leninista di Mosca era stato nuovamente arrestato nel 1932 e confinato a Ponza e a Ventotene rientrato a Monfalcone nel 1943 dopo la battaglia di Gorizia venne catturato e deportato in Germania erano dunque operai che come d'onda avevano combattuto nella prima guerra confinati o espatriati alcuni si erano formati in Unione Sovietica altri al confino altri conobbero e furono partecipi in prima persona dei rivolgimenti europei in bilico tra tentativi democratici o rivoluzionari e dittatura gli anni della loro cattura il 27 il 29 il 32 il 34 indicano le grandi rettate cui fu sottoposto il movimento comunista arresti che disarticolarono la direzione interruppero o spezzarono in momenti cruciali i legami tra le diverse federazioni come accade per Monfalcone che rimase per lunghi periodi separata da Trieste priva di indicazioni politiche proveniente dal centro quali altri elementi storico politici contribuirono alla loro formazione come ricorda Marina Cateruzza la dissoluzione dell'impero implicò anche la fine del socialismo austro-marxista pacifista gradualista internazionalista secondo l'originale pensiero di Otto Bauer e Karl Renner attento alla formazione culturale della classe operaia dopo la guerra si assistette a una rapida ed estrema radicalizzazione delle posizioni politiche il trattato di Rapallo unì all'Italia circa 400.000 sloveni e 150.000 croati che il governatorato militare prima e civile poi delle cosiddette terre redente cercarono di assimilare in modo violento suscitando nelle popolazioni slave profonde ribellioni ricordiamo l'estremizzarsi delle correnti liberali degli ex combattenti la nascita delle prime squadre fasciste già a partire dal 1919 in chiave nazionalista antisocialista e antislava ricordiamo gli assalti alle sedi operaie cui si opposero con uguale violenza gli arditi del popolo che videro un ventenne Vittorio Vidali attivo negli scontri e accanto a lui militanti più anziani che la guerra aveva indotto ad abbandonare le posizioni moderate la guerra civile culminò con l'incendio del Naro di Don la casa della cultura degli slavi a Trieste un dato può restituirci quanto accadde negli anni che vanno dal 19 al 21 134 furono gli edifici incendiati 100 i circoli di cultura chiusi devastate due case del popolo 21 camere del lavoro e tre cooperative il clima era surriscaldato da due fondamentali questioni mescolate tra di loro la questione politica e di classe cioè il desiderio da parte dei lavoratori di dare una spallata definitiva all'ordine liberale sul modello di quanto fatto in Russia di cui la Jugoslavia era vista come avamposto e la questione nazionale che esplose come tema di rimente dopo la dissoluzione austro-ungarica sia nel campo socialdemocratico che in quello comunista tema che non si riuscì a risolvere mai in modo condiviso e definitivo nel partito comunista d'Italia appena costituito convivevano militanti italiani e sloveni ben presto alle prese con organizzazioni slovene armate e nazionaliste come il TIG che a partire dal 1927 fecero attentati per opporsi al processo di espropriazione e snazionalizzazione operata del fascismo di frontiera i rapporti tra comunisti italiani e sloveni durante la guerra seguirono un percorso pieno di oscillazioni con avvicinamenti in cui si decisi di rimandare la questione dei confini alla fine del conflitto comprese di posizione che invece reputavano la questione già risolta con l'acquisizione di Trieste Gorizia e Fiume e con momenti di collaborazione paritaria nella lotta contro i nazifascisti e di riconoscimento della reciproca autonomia dilemmi politici e organizzativi segnarono anche gli stessi militanti italiani come dimostra il tragico destino di Vincenzo Marcon e Luigi Frausin il primo vicino alle posizioni slovene è una lotta comune il secondo che lavorava per un'autonomia del partito comunista italiano accanto ad altre forze politiche del CLN entrambi nel 44 ebbero un tragico destino Marcon ucciso perché considerato un traditore dagli stessi compagni di partito Frausin catturato torturato e bruciato alla risiera di San Sabba per dell'azione di un collaboratore collaboratore dei nazisti per i dirigenti della battaglia di Gorizia invece fu la fabbrica di Monfalcone il vero luogo dell'incontro tra italiani e sloveni della discussione dello scambio reciproco il rapporto tra comunisti italiani e sloveni visto dal punto di vista di molti militanti della fabbrica è sintetizzabile nella vicenda politica di Luigi Markovic operaio del cantiere membro del PC italiano e dopo l'8 settembre del PC sloveno collaboratore dell'OF il fronte di liberazione del popolo sloveno che a partire dal 26 aprile 41 riuniva aderenti di diverse opinioni politiche ma tutti antifascisti decise a combattere contro gli occupatori per loro fu questa la battaglia fondamentale non quella nazionale che rimase sullo sfondo delegata a chi ne sapeva di più nel 41 al momento dell'invasione della Jugoslavia Anton Sibeglia Stienka triestino e sloveno iscritto però al partito comunista italiano radunò un piccolo gruppo di resistenti sul carso e iniziò a sabotare i piloni dell'energia elettrica così da produrre interruzioni del lavoro in fabbrica gli operai solidarizzarono con queste azioni nel dicembre del 41 ci fu un incontro ad Oberdò tra Vinicio Fontanot e Mateusz Veluszczek per dar vita a una raccolta di fondi e materiali per i partigiani sloveni e per la loro lotta che entusiasmava i lavoratori italiani nel 1942 Kardel disse a Tito che il partito comunista sloveno era molto forte a Monfalcone tra gli operai e che il centro politico dell'OF era lì e nella zona di Gorizia e non più a Trieste a Gorizia tra l'11 e il 12 settembre iniziarono i combattimenti contro i tedeschi lungo un arco di circa 20 chilometri i combattenti italiani si organizzarono in quella che un documento indica come brigata triestina accanto ai riparti partigiani sloveni più tardi ripensando a quel battesimo di fuoco la brigata si chiamerà proletaria per mettere in evidenza la composizione dei suoi combattenti in un primo tempo i partigiani furono sostenuti anche dalla divisione Torino al comando del generale Bruno Malaguti che rifiutò di rendersi ai tedeschi ma che fu subito esautorato da Zanini gli attacchi durarono dieci giorni negli intorni di Gorizia in città presso la stazione ferroviaria per poi proseguire nelle zone periferiche della città per giorni la situazione rimase invariata i tedeschi avevano occupato Gorizia dopo aver messo in fuga i partigiani ma sulle colline intorno alla città i combattimenti continuavano il 25 settembre i tedeschi con i rinforzi che intanto li avevano raggiunti sferrarono il loro attacco scompaginando le fila partigiane tra il 27 e il 30 settembre misero a fare a fuoco i paesi intorno a Gorizia alcuni partigiani si rifugiarono a Ranziano a Rence molti riuscirono a tornare a casa e a riprendere il loro lavoro sul terreno si contarono circa un centinaio di morti che caddero durante gli scontri e nelle fasi di ripiegamento mentre altri vennero catturati e deportati nei lager in Germania coloro che volevano battersi ancora come Fontano Marega e Donde si ritrovarono nel bosco e il 12 ottobre 1943 formarono il battaglione Tristino d'Assalto anche questa formazione ha una storia particolare differente da quella della divisione Garibaldi Natizone il battaglione venne aggregato in un primo tempo alla brigata slovena Kosowel tra il 43 e il 44 il battaglione si ingrandì e divenne brigata Triestina e dopo un accordo con Lizzero dirigente comunista entrò a far parte delle formazioni Garibaldi anche se posta alle dipendenze operative di un comando paritetico italiano e sloveno alla fine dell'estate del 44 la brigata venne incorporata nella trentesima divisione slovena ma a dirigerla militarmente fu designato Riccardo Giacuzzo nato a Fiumicello in provincia di Udine che visse nel dopoguario in slovena e Mario Abram nata da Orisina un paese sloveno del Carso triestino studente universitario a Trieste e morta ad Ankarano in Slovenia la riprova di quanto la questione nazionale fosse per alcuni qualcosa che si poteva superare nel momento della lotta per un obiettivo comune grazie grazie a te Anna anche per essere stata rispettosa appunto dei tempi che ci eravamo assegnati e dopo Anna Di Gianantonio la parola al professor Borut Klabian il quale ci illustrerà ci parlerà il suo tema è 1941 attacco alla Jugoslavia e politica italiana di occupazione in Slovenia prego professor Klabian grazie mille vi ringrazio dell'invito e di questo interessantissimo convenio io ho modificato un po' quella che era la mia intenzione originale di parlare dell'attacco alla Jugoslavia dato che molto è stato già detto dai miei da chi mi ha preceduto soprattutto dal professor Pirves dal collega Capogreto e quindi permettetemi di contribuire a questo a questo convegno con una considerazione facendo per prima cosa i complimenti agli organizzatori perché in una situazione in cui il contesto nel quale viviamo non è certo propenso al dialogo allo studio delle fonti alla comprensione critica all'approfondimento scientifico e all'analisi di una determinata questione organizzare un incontro sull'aggressione italiana alla Jugoslavia durante la seconda guerra mondiale è ovviamente una boccata d'aria fresca spero di potervi contribuire con un paio di considerazioni che ritengo importanti per conoscere la storia del novecento e la storia della regione alto-adriatica che volente o non volente condiziona sia dal punto di vista politico ma anche etico e morale il mondo dopo il nostro mondo dopo 80 anni da quegli avvenimenti beh per comprendere appena uno di questi capitoli della seconda guerra mondiale come appunto l'attacco italiano all'Aegoslaria bisogna considerare vari aspetti e letture a vari livelli poco più di un anno fa il Parlamento europeo ha legiferato in modo sconsiderato in merito alle cause della seconda guerra mondiale non so se vi ricordate ma all'epoca avevano individuato nel patto Ribbent Molotov del 23 agosto 1939 l'inizio del conflitto sovrapponendo in questo modo una visione politica del passato all'indicazione della senza storica infatti per far coincidere i dettami della storia quella che è ormai diventata la storia ufficiale europea con le esigenze ideologiche delle forze politiche al potere perfino l'inizio ufficiale del conflitto è stato spostato dal primo settembre 1939 ad una settimana prima ma la situazione va analizzata in maniera più articolata ed appunto questo che mi propongo di fare mettendo in risalto alcuni aspetti di questo attacco degli abbinamenti dell'aprile del 41 soprattutto l'occupazione italiana della Slovenia durante il secondo conflitto mondiale questa va ovviamente inclusa in quelle che sono le operazioni belliche le accordi politici e militari dei paesi europei e allo stesso tempo come parte dell'espansione dell'Italia verso est iniziata già con le guerre per l'unità d'Italia continuata poi con la prima guerra mondiale e perseguita durante la seconda guerra mondiale come è stato già spesso ripetuto quest'oggi 6 aprile 41 le armate italiane tedesche e ungheresi e quelle bulgare più a sud invasero il regno di Jugoslavia e dopo poche settimane dopo pochi giorni di combattimenti ne sconvissero l'esercito se prima si è parlato delle aree croate io mi limiterò all'ambito sloveno che è oggi quello che confina con l'Italia come prima cosa mi permette sottolineare sarebbe sbagliato pensare che la violenza e la repressione contro gli Jugoslavi più precisamente contro Slovenia e i croati iniziò con la seconda guerra mondiale sebbene non si tratti di un processo lineare l'intreccio tra norme giuridiche incarcerazioni arbitrarie confinamenti fucilazioni furono caratteristiche che si susseguirono in varie ondate e in vari modi dall'occupazione italiana dell'area alto adriatica del 1918 in poi ciò divenne ovviamente esplicito soprattutto dalla metà degli anni 20 da quando l'Italia divenne una dittatura totalitaria che probabilmente dimostrò il suo carattere più repressivo proprio in questi luoghi nella zona alto adriatica che non si sottometteva ai dettami del regime veniva eliminato in vari modi decine di migliaia di persone emigrarono i più in Jugoslavia molti anche oltre l'oceano molti altri si adeguarono ai dettami del regime molti altri invece anche ne salutarono con favore questa politica repressiva tanti erano i fascisti nella Venezia Giulia alcuni come ben sappiamo e come successe altrove per comodità molti altri e per convinzione dove il razzismo antisloveno e antislave più in generale giocava una parte fondamentale in quello che poi prese il nome di fascismo di confine le relazioni tra le relazioni tra i due stati limitrofi tra il regno di Jugoslavia e il regno d'Italia passarono attraverso varie fasi l'abbiamo sentito l'ha spiegato bene il professor Pirevec dal marzo 1937 tra i due paesi vigeva anche un patto di amicizia formato a Belgrado tra il premier e anche ministro di etria e storia Dinovic da una parte e Galeazzo Ciano dall'altra ma questo ovviamente non precluse all'Italia di attaccare la vicina Jugoslavia l'esercito italiano avanzò indisturbato per cui riguarda l'ambito sloveno fino alla capitale lubiana la occupò e la annesse con il nome di provincia di Lubiana beh le fonti più che di eroici atti di resistenza parlano dell'incredulità della popolazione locale nel vedere le penne nere occupare la loro città alcuni credevano pragmaticamente che occupazione per occupazione fosse meglio quella italiana di quella tedesca e se ciò poteva valere per le prime settimane ben presto si dimostrò che tali calconi erano prematuri l'esercito italiano tentò di sopperire all'incapacità della propria politica di occupazione con una repressione violenta l'abbiamo sentito molto dettagliatamente nelle parole del collega capogreco uccisioni sommarie rastrellamenti fucilazioni di civili stupri incarcerazione di massa di migliaia di famiglie con donne e bambini compresi hanno caratterizzato l'esperienza di guerra della popolazione se prendo in presito un passaggio di uno dei migliori conoscrittori del tema torno e ferenz fino ad oggi non siamo riusciti a conteggiare tutti i villaggi bruciati dall'esercito italiano come ha poi confermato un altro storico Osti Guerrazi non fu il caso isolato di qualche unità di fanatiche camicie nere ma di una collaborazione stretta continua con l'esercito regolare sulla base di queste ricerche e delle testimonianze che abbiamo sentito prima si appare chiaro l'uso della violenza indiscriminata e il perché di tale violenza se dopo vent'anni di amministrazione delle nuove province della Venezia Giulia lo Stato italiano non era riuscito ad eliminare sacche di resistenza antifascista più o meno estese sul territorio dimostra l'operato piuttosto fallimentare dello Stato italiano e del regime fascista che dovevano ricorrere alla repressione più volenta come ha dimostrato poi per le altre zone di occupazione Davide Rodonio in un suo testo di qualche anno fa la repressione si dimostrò tanto brutale quanto inefficace e infatti alla lunga sortì l'effetto opposto invece di una paura collettiva una percentuale crescente della popolazione sosteneva i partigiani e la resistenza interessante è notare come meccanismi simili siano all'opera anche nel dopoguerra e nella lotta postma per la memoria in l'ambito sloveno e in generale in quello jugoslavo l'Italia giocò un ruolo di primo piano piano ovviamente perché migliaia di militari italiani avevano partecipato all'occupazione della Jugoslavia passati i primi anni dalle atrocità della guerra superate le diffidenze legate alle diatribe di confine e grazie anche ad un clima internazionale di relativa distensione a partire dalla fine degli anni 50 iniziò a prender corpo tra quella che è la nuova Jugoslavia socialista e l'Italia repubblicana un clima di operazione che riguardò anche le questioni legate alla guerra all'inizio gli scambi si basarono principalmente sull'interesse per il recupero delle spoglie dei caduti frequenti furono le richieste di informazioni da parte di familiari e di militari a cui seguivano le richieste di recupero dei resti e del loro eventuale trasporto in patria nel 47 la legazione italiana a Belgrado aveva inviato al ministero dell'Iestra Jugoslavo una nota verbale chiedendo aiuto in questo senso dato l'intricato contesto politico ma anche per via delle difficoltà di queste operazioni fino all'impossibilità pratica di portarle a termine le trattative proseguirono a rilento tanto che solo nel 1962 si giunse ad un accordo di mutua cooperazione esso fussiliato il 15 aprile 1964 in modo da permettere all'Italia di esumare e rimpatriare i resti di circa 13.000 militari italiani e d'altra parte alla Jugoslavia di promuovere la costruzione di Sacrari a Roma a Bari a Sansepolcro a Trieste Gorizia e Gonars per riunirvi i resti di oltre 8.000 vittime jugoslave giacenti sul suolo italiano nonostante gli intoppi negli anni successivi che secondo fonti jugoslave erano dovuti all'ostruzionismo dei ministeri italiani nel 1970 viene ultimata la costruzione del primo monumento commemorativo che trattava del Sacrario presso il cimitero di Barletta dove vennero traslati i resti di più di 800 corpi di caduti jugoslavi sparsi per l'Italia meridionale e le isole la Puglia giocava un ruolo di primo piano sia dal punto di vista simbolico sia dal punto di vista pratico e proprio qui infatti prima a Carbonara di Bari e poi a Gravina dove si erano formate le cosiddette brigate d'oltremare jugoslave ma c'era anche un aspetto pratico dopo la caduta del regime fascista nel luglio del 43 in tutta la Puglia da Andria a Grumo a Puglia dal Tamura a Taranto a Monopoli a Brindisi e così via vennero allestiti ospedali di fortuna che ospitarono migliaia di feriti provenienti dal resto d'Italia e dalle regioni jugoslave occupate chi riuscì a rimettersi veniva solitamente rimpatriato gli altri vennero invece sepolti nei cimiteri locali successivamente si decise di riunirli nel sacrario di Barletta l'amministrazione comunale all'epoca guidata in quegli anni dal democristiano Michele Morelli mise a disposizione il terreno e si prodigò per la realizzazione del sacrario la costruzione fu opera di aziende locali ma venne finanziata dal governo jugoslavo che si era affidato allo scultore Dushan Jamonia membro dell'Accademia di Belle Art di Zagabria l'inaugurazione si tenne il 4 luglio giorno in cui in Jugoslavia si celebrava la giornata del combattente nonostante l'evento non avesse preso parte il presidente jugoslavo Josip Brostito come avevano invece più volte auspicato le autorità locali di Barletta la cerimonia vide comunque la partecipazione di alte cariche sia militari che civili dei due paesi oltre ai sacreri dedicati espressamente ai caduti jugoslavi i rappresentanti istituzionali jugoslavi erano spesso invitati anche a presenziare all'inaugurazione dei singoli monumenti costruiti in tante località italiane sia perché partigiani jugoslavi avevano combattuto in quei luoghi trovandovi spesso la morte o anche solamente per il ruolo di primo piano che la Jugoslavia e i suoi partigiani avevano avuto durante la seconda guerra mondiale questo tipo di commemorazione ricadevano in un contesto più ampio dell'abituale relativamente circoscritto insieme di associazioni combattentistiche di reduci e dei loro familiari che andavano a rendere omaggio alle vittime della guerra in molti casi le celebrazioni avevano origine e anche poggiavano su rapporti personali risalenti al tempo di guerra o basati sulla comune esperienza antifascista nel secondo dopoguerra il comandante partigiano Anton Ukmar Miro originario di Prosecco vicino a Trieste fu eletto cittadino onorario sia di Capodistria in Slovenia che di Genova dove aveva guidato le formazioni garibaldine in tempo di guerra e fu comandante di piazza dopo la liberazione sia lui che Gergacupic nome di battaglia Borro un dalmata che aveva comandato la divisione garibaldina Mingo nei dittorni di Genova presero parte a varie commemorazioni organizzate per lo più da sessione Liguri dell'Ampi stretti contatti tra i combattenti sloveni e la sessione vicentina dell'Ampi si svilupparono invece a seguito dell'impegno profuso da Anton Vratuscia importante figura di congiunzione tra la resistenza slovena e i vertici del partito comunista italiano durante la guerra fu confermato dalla visita del presidente dell'Ampi a Rigo Boldrini in Slovenia nel 1974 ma l'accento più importante all'idea di una lotta comune contro il nazifascismo fu dato dalla presenza del presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini allo scoprimento di un monumento alla memoria della divisione Garibaldi nel villaggio di Merzovici presso Plieglia di Montenegro là dove si era formata la divisione nel dicembre del 1943 e lì il 21 settembre dell'83 nel quarantesimo anniversario Pertini accompagnato da Giulio Andreotti allora capo della diplomazia italiana inaugurò un memoriale dedicato alla principale formazione partigiana straniera operante in terra iugoslava durante la guerra l'esperienza bellica che alimentava il paradigma resistenziale in Italia contribuì quindi anche allo sviluppo di incontri istituzionali che in alcuni casi sfociarono in legami duraturi di vario tipo se fino alla fine degli anni cinquanta furono singoli italiani ad andare in Jugoslavia da soli o con i familiari per visitare i luoghi dove avevano combattuto dagli anni sessanta in poi interi gruppi composti da sindaci consigli comunali delegazioni cittadine sessioni di partito organizzazioni della società civile cominciarono ad essere una rete di rapporti con la vicina Jugoslavia si estendevano ben al di là delle relazioni tra associazioni combattentistiche le pratiche coinvolgevano sempre più spesso anche istituti scolastici associazioni sportive bande musicali gruppi folkloristici e organizzazioni culturali dando a questo tipo di eventi un significato di aggregazione sociale internazionale dagli anni sessanta in poi vennero stipulati gemellaggi tra località italiane e jugoslave che spesso si basavano su commemorazioni congiunte arricchendosi col tempo di contenuti culturali sportivi e non di rado di cooperazione economica ad esempio fu durante l'incontro organizzativo per la costruzione del sacramento memoriale jugoslavo a Sansepolcro inaugurato nel 73 il comune a Retino informò il ministero degli esteri jugoslavo del desiderio di stringere un gemellaggio con una città jugoslava si concretizzò in una collaborazione con la città di Sin in Croatica anche nel caso di Barletta prima dell'inaugurazione del sacerario nel settembre del 69 la città aveva stretto un gemellaggio una città montenegrina di Kertnovi collaborazioni simili si installarono tra Bologna e Zagabria tra la serba Kruschevac e Pistoia tra Mola di Bari e la montenegrina Tivat tra Zetini e Spoleto tra Reggio Emilia e Zara tra Gonarsim e Friuli e la Slovenia Varchnica tra Maribor e Udine e così via e così via questa politica corrispondeva all'esistenza di Jugoslava di superare l'isolamento politico dopo la rottura con il blocco sovietico e coincideva con gli interessi geopolitici dell'Italia più in presto divenne un partner economico tra i più importanti per la vicina Repubblica lungo il confine italo-jugoslavo inoltre accadeva regolarmente che le delegazioni della comunità slovena in Italia di quella italiana in Jugoslavia e di quelle formate da politici italiani soprattutto di sinistra commemorassero assieme eventi bellici o giornate della liberazione sia in Jugoslavia che in Italia le sezioni locali delle associazioni di ex partigiani fungevano spesso da tramite per visite reciproche e scambi di idee nonché per la normale instaurazione di contatti tra gli ex combattenti ai due lati del confine e benché i pregiudizi di natura politica non fossero ancora estinti dalla fine degli anni sessanta ci fu una crescente attenzione all'elaborazione di una memoria di larga intese di un nuovo affronto popolare della memoria antifascista evidenziando le origini della lotta partigiana contro il comune nemico nazifascista le tensioni infatti non erano dovute tanto a contrasti di natura etnico-nazionale come potrebbe far intendere l'odierna volgata infatto di confine orientale incentrata esclusivamente su contrapposizioni nazionali bensì all'antagonismo ideologico della guerra fredda la rottura tra Tito e Stalin del 48 a provocare scissioni insanabili nella coalizione antifascista che si properassero per decenni le commemorazioni di inversione bilingue in italiano e in sloveno erano di fatto molto frequenti nell'area confinaria e la retorica della fratellanza italo-slava conneata dai tempi della guerra continuava ad essere il perno di tutte le commemorazioni postbelliche ai due lati del confine abitati da ambidue le comunità nazionali quella slovena in Italia e quella italiana in Jugoslavia anche le iscrizioni sui monumenti erano non di rado bilingui nei pressi di Kucibrek piccola località oggi attraversata le confine tra Slovenia e Croazia dove nell'autunno del 44 i partigiani registrarono pesanti perdite contro le forze naziste e dove nel 1959 fu eretto il monumento le commemorazioni si svolgevano in tre lingue croato italiano e sloveno le delegazioni delle organizzazioni combatte artistiche dei tre stati si incontrano tuttora a cadenza annuale per onorare il simbolo del comune sacrificio il fatto concedetemi di terminare con alcune conclusioni che ci fanno vedere come sia importante evidenziare questi questi eventi e come un atteggiamento ambivalente dello stato italiano nei confronti della storia di questa storia porti poi ad una repressione della memoria di quel periodo il fatto che dopo 80 anni in Italia che paese che si fonda esplicitamente sull'antifascismo non promuova la conoscenza di questi temi si presta ovviamente ad un'analisi più profonda che ovviamente non farò quest'oggi ma dalle mie ricerche appare che questa ambiguità memoriale poi va ad impattare sulla perdita di credibilità delle istituzioni statali e in un'epoca in cui oramai ci stanno lasciando gli ultimi testimoni di quelle vicende è molto preoccupante e rende il compito della scienza storica ancora più arduo grazie mille per la vostra attenzione grazie a te professore che anche tu sei rimasto logicamente nei tempi che avevamo stabilito allora l'ultimo intervento prima delle conclusioni del presidente nazionale dell'AMPI a Federico Tenca Montini che ci parlerà del dopoguerra e quindi la questione del confine italo-jugoslavo dal 45 al 75 prego hai la parola Federico eccoci grazie presidente mi si concede ad iniziare ringraziando per l'opportunità ma anche complimentandomi per l'alta qualità di questa iniziativa con l'AMPI nella sua declinazione sia nazionale che regionale per il fluo di Venezia Giulia e poi nelle singole province che ne fanno parte peraltro ci manda i suoi saluti Carattieri il direttore del Parri come ha detto il presidente Spanghero il mio intervento viene anche cronologicamente a concludere questa conferenza trae l'abbrivio dalla mia recente di fatto della pubblicazione della mia tesi di dottorato per i tipi del mulino la Jugoslavia e la questione di Trieste 1945 1954 ed è una trattazione che inizia non proprio quando tacquero le armi perché in questo settore anche a Trieste la seconda guerra mondiale si concluse l'8 maggio un po' prima il primo maggio la liberazione di Trieste ad opera delle truppe partigiane jugoslave sancisce di fatto l'inizio della questione di Trieste una discuta territoriale che si sarebbe protratta per 30 anni 45 e 75 nella sostanza gli Jugoslavi entrano a Trieste non era molto chiaro ma era sostanzialmente chiaro che si sarebbe cercata naturalmente una revisione del confine perché l'Italia perde la guerra e la Jugoslavia la vince come membro appena titolo della coalizione antifascista non erano chiari i termini di questa revisione territoriale una serie di dinamiche sul campo il mancato sfondamento della linea gotica in primis permettono ai partigiani dal quarto esercito fondato in Dalmazia mesi prima con il supporto degli isoloveni del nono corpus di liberare la città gli occidentali gli angloamericani e tecnicamente degli neozelandesi ci arrivano un giorno dopo la situazione non è quella desiderata si comincia a fare una pressione sugli Jugoslavi per cacciarli la mia ricerca assieme ad altri ritrovati piuttosto recenti ha permesso di ricostruire come questa pressione militare sia stata così forte da essere sul punto di sfociare in un nuovo conflitto ad un certo punto stavano bruciando addirittura gli americani stavano liquidando la documentazione dell'ambasciata per fare pressione Tito cede Stalin Stalin non voleva rischiare di fatto una prosecuzione della guerra e le truppe Jugoslavie si ritirano oltre la linea Morgan nella sostanza cosa viene fatto si traccia un territorio questo territorio voglio essere molto preciso nei termini territoriali perché mi rendo conto che per molte persone non sia facile anche per scarsa dimestichezza con queste parti sostanzialmente il territorio delimitato a oriente dal confine italo-jugoslavo del 39 e a occidente dalla massima espansione delle truppe jugoslave nel maggio del 45 viene diviso in due tronconi da questa linea Morgan che prende il nome da un generale che l'ha disegnata su una mappa a Belgrado trovato peraltro la mappa con il tratto di penna la zona A non quindi territorio libero di Trieste questo viene dopo quella è la zona famosa ma la zona A della Venezia Giulia è la parte occidentale della Venezia Giulia e è occupata dagli angloamericani la zona B è la parte orientale ed è occupata dagli jugoslavi questo in attesa che la conferenza di pace stabilisse un confine accettabile per tutte le parti non c'era un confine accettabile per entrambe le parti e anzi i rapporti tra i due schieramenti quello occidentale e quello comunista peggiorano con lo sfaldamento della coalizione antifascista quindi a Parigi nel corso di estenuanti trattative in realtà una storia appassionante perché c'è stato un vero impegno accorato dei diplomatici sia i jugoslavici che gli italiani non si riesce a trovare una soluzione per la questione e ci si ricorda di quelle soluzioni territoriali un po' retro già all'epoca approvate al termine del primo conflitto nazionale danzica e cose di questo tipo e cioè si pensa di risolvere la questione con la creazione di uno stato indipendente il territorio libero di trieste questo territorio libero di trieste si estendeva da duino devin fondamentalmente fino a novigrad in istria a sua volta questo territorio era diviso sempre della linea morga in due parti la la zona a amministrata dagli anglo americani e la zona b amministrata dagli jugoslavi questo stato di utopia perché non esistette si sarebbe perfezionato con la nomina di un governatore che doveva essere una personalità terza non di un paese sottoscrittore del trattato e poi in collegamento con con l'ONU si tentò di procedere alla nomina di questo governatore ma non fu possibile venne posta una grande quantità di nominativi che venivano bocciati di fatto ormai era evidente che non ci fosse una soluzione possibile di fatto prima gli anglo americani hanno proposto perché non era una proposta sovietica il territorio del Libro di Trieste poi sono stati loro a boicottare questo perfezionamento questa attivazione del TLT anche perché non arrivando il governatore lo Stato rimaneva sulla carta e quindi gli anglo americani potevano trattenere nel territorio delle truppe abbastanza consistenti che in una zona così calda del del confine tra i due blocchi nella sostanza non era dal loro punto di vista sbagliato la situazione rimane bloccata per alcuni mesi finché interviene il primo grande colpo di scena intanto nei primi mesi del 48 si già prima si esaurisce l'esperienza dei governi frontisti in Italia quindi si preparano delle elezioni che avrebbero portato all'elezione o di un governo filo democristiano e quindi filo occidentale o comunista filo sovietico le varie parti in causa intervengono lo schieramento internazionale per condizionare l'esito delle elezioni l'Unione sovietica propone l'assegnazione all'Italia in amministrazione fiduciaria delle colonie gli occidentali rispondono promettendo all'Italia qualcosa di impossibile e cioè l'intero TLT la zona A e la zona B impossibile perché non rientrava nelle loro competenze fare da solo una revisione del trattato di pace in assenza dell'Unione sovietica e degli altri sottoscrittori e in ogni caso sarebbe stato un po' difficile mandare via gli jugoslavi dalla zona B si trattava di una promessa elettorale che sortì anche l'effetto di legare le mani se mi si passa l'espressione alla diplomazia italiana dal momento che l'opinione pubblica italiana non avrebbe più accettato un compromesso che consegnasse all'Italia meno che l'intero TLT per quanto riguarda invece la Jugoslavia in quei giorni si era indaffarati con tutt'altro e cioè con i prodromi della situazione di dissidio con l'Unione sovietica che sarebbe maturata nei mesi successivi fino a portare il 28 giugno del 48 all'esclusione alla cacciata della Jugoslavia dal Cominform l'organismo di coordinamento dei partiti comunisti è una storia molto appassionante quella dell'impatto della risoluzione del Cominform sulla Jugoslavia ricostruita in maniera eccellente da un lavoro del professor Pirevez tra l'altro basti dire che le diplomazie occidentali furono colte completamente di sorpresa e come dice lo storico croato Iakovina la CIA apprese della risoluzione dai giornali quindi i servizi non erano stati in grado di capire che stesse succedendo qualcosa di grosso questa in estrema sintesi la Jugoslavia viene cacciata dal dal novero buono dei partiti comunisti europei non per essere stata troppo poco comunista anche se questo si sostiene poi nella documentazione ufficiale ma per essere stata troppo infatti l'ardore rivoluzionario dei leader jugoslavi che erano giunti al potere da soli e contravvenendo a gran parte delle ricette di Stalin per la presa del potere proseguivano sia con un atteggiamento di sfida nei confronti dell'Occidente che con il sostegno alla guerriglia in Grecia oltre a vagheggiare propositi di egemonia regionale attraverso la federazione tra la Jugoslavia la Bulgaria e l'Albania inoltre a livello locale la risoluzione del Cominform a livello locale nel TLT portò ad un colpo di mano degli elementi italiani del partito che sfacciatamente riuscirono a prendere il controllo del partito quindi di fatto il partito comunista jugoslavo perse quasi ogni forma di controllo sulle masse del TLT la risoluzione del Cominform portò ad una fase di stasi in cui di tutto prima l'Occidente cercò di capire che atteggiamento adottare per aiutare Tito in funzione antisovietica e gli stessi leader jugoslavici misero un po' a elaborare psicologicamente il cambio di fronte in questa situazione di paralisi certamente a farne le spese furono le popolazioni sul territorio la minoranza slovena ormai collocata lungo tutto il confine anche nella parte alta che era già abbastanza definita quindi a Gorizia nella Slavia Veneta e nel TLT che fu vittima di continue provocazioni e vessazioni di attentati attentati anche all'ambasciata jugoslava a Roma e in certe fasi addirittura attentati alle sedi della diplomazia internazionale e contemporaneamente di certo gli italiani rimasti nella zona B e nel territorio già jugoslavo ebbero un impatto molto difficile con la il potere comunista nella sua realizzazione pratica quindi con il farsi stato del movimento comunista jugoslavo in ogni caso nel volgere in realtà di un paio d'anni l'occidente si risolse a tenere Tito a galle questa è la formula canonica to keep Tito afloat e vennero attivate delle misure di sostegno economico alla Jugoslavia dove altrimenti si rischiava letteralmente di morire di fame perché il boicottaggio dei sovietici si estendeva anche alle logiche di scambio e ridistribuzione all'interno del mondo comunista quindi il paese sostanzialmente non poteva altrimenti commerciare inoltre si arrivò con il tempo a importanti iniziative di collaborazione militare tra la Jugoslavia e l'occidente sempre in caso di attacco sovietico che in questa fase si presumeva potesse avvenire dall'Ungheria proprio attraverso la valle di Ljubljana la porta di Ljubljana e quindi raggiungere i Friuli e poi dilagare nella pianura padana questa almeno era la percezione occidentale dell'effettivo rischio di una manovra di questo tipo laddove lo scenario internazionale andò in qualche modo stabilizzandosi l'occidente iniziò anche le potenze occidentali iniziarono anche a patrocinare una qualche forma di soluzione di compromesso per risolvere la vertenza dell'irrealizzato Tlt una prima tornata di colloqui italo-jugoslavi gli incontri Bebler e Guidotti a Parigi ebbero luogo tra il 51 e il 52 proprio nello scorcio dell'inverno fu una trattativa del tutto infructuosa ma come hanno permesso di acclarare le mie ricerche negli archivi jugoslavi proprio questa trattativa fece germogliare a Belgrado un approccio nuovo e cioè l'idea di risolvere il problema del Tlt non spartendolo ma attivandolo con una logica nuova una alternanza di governatori nominati a turno dall'Italia e dalla Jugoslavia nel periodo successivo la posizione della Jugoslavia insieme allo schieramento occidentale andò rafforzandosi ulteriormente e la comunicazione e la collaborazione militare fu così stretta ad un certo punto che sembrò quasi passibile di sfociare nell'ingresso del paese della Nato sembra fantascientifico oggi ma si erano fatti alcuni sondaggi in tal senso naturalmente non se ne fece nulla ma almeno il paese approdò con un'alleanza militare con Grecia e Turchia a una forma di collaborazione militare davvero importante le tensioni irrisolte e accumulate sul confine con l'Italia vennero fatalmente al pettine nel 1953 quella primavera infatti la sconfitta elettorale di De Gasperi che non riuscì ad attrarre abbastanza voti quanti ne prevedeva la legge truffa sprofondò l'Italia in un periodo di incertezza politica mentre Belgrado rilanciava in grande stile le sue iniziative appunto per aggiungere l'attivazione del TLT secondo le modalità di cui ho appena detto a Roma contrariamente alle aspettative Jugoslave almeno si andò formando o si formò il governo Pella non era più il solito monocolore democristiano con i soliti fiancheggiatori ma era un governo basato sull'appoggio delle forze politiche di destra e l'astensione dei neofascisti con una piattaforma in politica estera estremamente nazionalista l'invio al confine di truppe italiane una delle prime azioni di Pella attraverso fondamentalmente una scusa e cioè un errore di traduzione in un comunicato jugoslavo che lasciava presagire qualche misura in zona B giusto per la precisione beh questo aumento della temperatura in loco indusse gli anglo-americani viene ad emettere frettolosamente la nota B partita e cioè la dichiarazione che la zona A del TLT con Trieste sarebbe stata ceduta all'Italia e in assenza però di precise garanzie per la Jugoslavia sul destino della zona B è un po' un mistero stereografico perché si sia arrivati senza consultarsi con la Jugoslavia a proporre una soluzione del genere che sembrava ormai inaccettabile ad un paese così orgoglioso e così ormai attestato su posizioni filo-occidentali sicuramente un ruolo lo ebbe l'elezione di Eisenhower Truman prima aveva avuto un savoir-faire un po' diverso e anche la presenza a Roma di una un'ambasciatrice molto energica l'ambasciatrice Luz in ogni caso la gelida accoglienza di un tale annuncio da parte di Belgrado in realtà questo è un eufemismo perché le proteste a Belgrado semidistrussero le ambasciate occidentali congelò la situazione il che fece aumentare ulteriormente la tensione a Trieste e comportò i gravi incidenti che scoppiarono in città al principio di novembre del 53 le proteste degli ambienti nazionalisti nel cui seno erano stati infiltrati dei provocatori e molte armi erano state infiltrate in città causarono infatti allora addirittura dei morti sei tra i manifestanti eppure il ricorso alla violenza non giovò alla causa dei facinorosi la situazione venne infatti ricondotta grazie anche alla pazienza per certi versi della Jugoslavia a vie diplomatiche e risolta con un ingegnoso ed intricato dispositivo diplomatico gli Jugoslavi pattuirono prima con gli angloamericani separatamente una proposta di confine da sottoporre all'Italia una proposta che doveva essere accettabile per l'Italia se ne occupò materialmente Vladimir Velebid un grosso funzionario Jugoslavi diplomatico a Londra poi in una seconda tornata questa soluzione venne proposta all'Italia che proposa a sua volta delle piccole modifiche in questo modo si giunse al memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 l'accordo previde la spartizione del territorio libero di Trieste sostanzialmente in corrispondenza del confine tra le due zone al netto di una piccola correzione a favore della Jugoslavia nel settore meridionale vicino a Mugia inoltre vennero pattuiti dei sostanziosi aiuti economici alla Jugoslavia per la costruzione di un porto che sostituisse Trieste ormai definitivamente persa Belgrado stante la delusione ricevuta attraverso la nota bipartita e cioè questa decisione di dare Trieste all'Italia senza avvertire la Jugoslavia eventualmente reagì rivedendo l'impostazione della propria politica estera a conclusione di una fase marcatamente filo occidentale non a caso il comportamento delle potenze occidentali attorno a Trieste nel 53 viene definito nella documentazione jugoslava un secondo invito a Bucharest ovvero un tradimento equivalente alla cacciata del paese l'alcomo di cui si è detto però ad occidente quindi abbiamo i due tradimenti subiti dalla Jugoslavia nel primo decennio post bellico in ogni caso Stalin era ormai morto da alcuni mesi e la pressione esercitata dagli altri paesi comunisti sulla Jugoslavia era andata visibilmente affievolendosi questo permise a Tito di inaugurare la politica una politica di attenzione in primo luogo a quei paesi che si stavano affrancando dal dominio coloniale siamo negli anni e cinquanta questa politica sarebbe sfociata nel medio termine nel movimento dei paesi non allineati e cioè nella Jugoslavia e nel Tito di cui più facilmente ci ricordiamo le condizioni per il superamento della provvisualità del memorandum di Londra che non era una vera revisione del trattato di pace non poteva esserlo ma era solo un accordo de facto maturarono negli anni successivi molto lentamente con il progressivo raffreddamento della passione patriottica nei due paesi le prime tracce di iniziativa concreta per arrivare ad una soluzione definitiva a norma di legge risalgono addirittura al fine degli anni sessanta quando l'intervento militare sovietico in Cicoslovacchia fece temere che un simile scenario applicato alla Jugoslavia all'indomani della scomparsa di Tito che era ormai quasi ottantenne potesse avere conseguenze in fauste a fronte della provvisualità del confine un simile intento si inquadra inoltre in quella che è stata definita recentemente la Ostpolitik italiana e cioè un atteggiamento di apertura verso i paesi anche comunisti promosso con una certa timidezza a dire il vero nella stagione del centro-sinistra di Aldo Moro i primi tentativi di accordo diplomatico vero e proprio vennero però a interrompersi a seguito dell'incidente diplomatico a proposito di questi animi che non riescono a raffreddarsi e neanche oggi sono così e calmi occorso nel 1970 quando Tito cancellò la visita prevista a Roma perché su richiesta di parlamentari dei partiti di destra si era fatto garantire al governo italiano che non si sarebbe parlato del confine si trattava di questo la visita venne in qualche modo recuperata l'anno successivo dal momento che le trattative diplomatiche ufficiali vennero avviate negli anni immediatamente successivi si aranavano quasi subito la strategia che permise di arrivare finalmente alla definizione degli accordi di Osimo del 75 fu l'attivazione di un canale segreto che vide attivi anziché personale diplomatico vero e proprio due alti funzionari dei rispettivi ministeri dell'economia italiano e jugoslavo Eugenio Carbone e Boris Schnuder con il trattato di Osimo venivano finalmente ad essere risolti gli aspetti pendenti nella definizione formale del confine ma anche e questo è importante rispetto al trattamento delle rispettive minoranze italiane in Jugoslavia e Jugoslava oggi Slovena in Italia venivano anche affrontati gli aspetti di collaborazione economica il trattato prevedeva infatti la creazione di una zona franca industriale artigianale sul Carso a cavallo del confine alle spalle di Trieste era un'idea avveniristica che in qualche modo ricordava quel progetto jugoslavo di cui ho detto nel 52 nel 53 di attivare il TLT con una formula di coamministrazione in effetti i comunisti jugoslavi hanno sempre avuto un po' questo pallino di mostrare nella pratica come dei regimi con un orientamento politico diverso possono comunque collaborare laddodo però questa iniziativa sembrava andare incontro alle esigenze dell'economia jugoslava che avrebbe esportato per così dire lavoratori ma soprattutto materie prime mentre al contempo Trieste avrebbe avuto molti posti di lavoro impiegatizi che avrebbero in qualche modo supplito alla cronica deficienza di posti di lavoro a Trieste un fenomeno a cui assistiamo ancora oggi poi invece c'è la popolazione triestina a reagire alla notizia con estrema delusione addirittura dando vita dal nulla ad una forza politica locale la lista per Trieste detta affettosamente il melone per via del simbolo che ricorda vagamente un grosso frutto arancione e questa forza spazzò le tradizionali forze politiche mandando definitivamente in soffitta la visione di carbone e schnuder questo nel settantacinque l'accordo di Osimo è stato poi ereditato dalle repubbliche di Slovenia e di Croazia che sono succiditrici della Jugoslavia salvo forse qualche sbandata limitatamente a circoli neofascisti negli anni novanta quando la guerra jugoslava fece pensare a qualcuno che si potesse rimettere in discussione l'attribuzione dell'Istria e salvo qualche gaffe degli ultimi anni che ha visto alcuni politici anche di una certa importanza dire a Trieste delle cose sempre sull'Istria e sulla Dalmazia con questo ho finito e vi ringrazio per l'attenzione e ripeto di essere molto onorato e di essere stato ammesso a discutere in questo consesso grazie professor Montini grazie soprattutto per questa tua lucidissima esposizione di quanto è successo dal 45 a poi quando appunto tacperò le armi e quando la diplomazia ebbe in mano la situazione e quindi la questione del confine Italo Italo Italo-Slaveno mi corre l'obbligo logicamente di ringraziare tutti quanti voi prima che lo faccia il mio presidente nazionale in particolar modo saluto Marian Krisman che lo devo ringraziare non solo per aver partecipato ma chiaramente per aver contribuito diciamo a contattare i relatori e quindi è lui uno degli organizzatori di questo intervento di questo convegno assieme all'AMPI nazionale quindi grazie grazie a voi della vostra attenzione e la parola al presidente nazionale dell'AMPI Gianfranco Pagliarulo a te Gianfranco sono io che ringrazio Fabrizio De Santis della segreteria nazionale e te stesso Dino Spanghero con le compagnie e i compagni del Friuli Venezia Giulia oltre che naturalmente Marian Krisman per il loro contributo determinante all'organizzazione di questo convegno ringrazio poi consentitemelo specificamente il presidente dell'AMPI di Trieste Fabio Vallon perché non dimentico che è stato il primo tanto tempo fa a propormi un convegno nazionale su questa materia io colgo l'occasione per chiedere con molta cortesia alle relatrici alla relatrice e ai relatori di inviarci i testi scritti delle loro interessanti relazioni affinché possiamo pubblicare gli atti di questo convegno che mi pare non vada assolutamente disperso ringrazio davvero la relatrice e i relatori per un contributo che ritengo preziosissimo non sfugge a nessuno che sono di tre diverse nazionalità italiana slovena croata né sfugge l'importanza del saluto del carissimo Marian Griezmann anche a nome di Franio Abulin presidenti rispettivamente di ZZ Nob e Saba associazioni slovena e croata dei partigiani in questo c'è un primo elemento di novità e cioè il voler riflettere su di un tempo sanguinoso in una cooperazione pensando finalmente al confine non più come un punto di separazione o di conflitto ma come un luogo dove sono presenti e si ascoltano reciprocamente più voci e più lingue grazie al concorso di queste voci e di queste lingue si può incarnare una visione più obiettiva di ciò che è avvenuto in passato superando ogni tentazione nazionalistica e ogni strumentalità politica io non ho da aggiungere neanche una parola alle relazioni che ci hanno fornito un quadro analitico di grande spessore e di grande valore ma è inevitabile che mi soffermi sia pur brevemente sull'attualità e su alcune specifiche vicende del mio paese nel pesantissimo periodo che tutti stiamo attraversando a questo proposito colgo l'occasione per esprimere piena solidarietà a Eric Gobetti che è stato oggetto di attacchi surreali per il suo ultimo bel libro dal titolo E allora le foibe secondo i suoi vacui calumniatori che partendo dall'assunto sentite bene di non aver letto il volume lo stroncano perché cosa del tutto falsa negazionista ciò però rivela l'approccio di queste forze dell'estrema destra a questo e ad altri temi un approccio di rifiuto pregiudiziale di qualsiasi conoscenza storico-critica e la riduzione di eventi drammatici a totem di una sorta di antistoria che diviene mito leggenda rito purificatorio delle colpe del regime fascista la grottesca parodia del dramma realissimo delle foibe come segnalato proprio da Gobetti è nell'uso della foto che abbiamo proposto nel manifesto di convocazione del convegno io non so se qua si può vedere con una certa nitidezza ebbene è la foto della fucilazione di cinque persone foto più volte proposta come simbolica del dramma delle foibe ebbene è la foto di cinque partigiani sloveni fucilati da soldati italiani l'aggressione italiana alla Jugoslavia per come si è storicamente determinata ci hanno spiegato i nostri relatori ha risentito dello specifico contesto di quell'aprile del 41 vale a dire il sostanziale fallimento della precedente aggressione alla Grecia da parte dell'Italia e il tentativo di contenere per alcuni aspetti l'espansione nazista nei Balcani e di estendere un'area occupata dall'Italia ma è altrettanto vero che l'ambizione imperialista verso le terre slave risale come c'è stato autorevolmente ricordato a molto prima sia alle politiche estere liberali che guardavano all'espansionismo verso est sia per esempio a quel settembre del 1920 quando Appola Mussolini affermò per la creazione del nostro sogno mediterraneo è necessario che l'Adriatico che è il nostro golfo si intende entrambe le sponde sia in mano nostra di fronte alla inferiorità della razza barbarica quale quella slava come è noto nello stesso tempo la stessa persona pronunciava ulteriori sprezzanti affermazioni nei confronti di quei popoli diceva una razza inferiore e barbara a conferma che il veleno del razzismo non è nato con le leggi razziali del 38 ma è molto antecedente e si mescolerà con analoghe per così dire liturgie nei confronti degli africani e degli ebrei tutto ciò mette a tema il razzismo italiano che non è certo un'invenzione esclusiva del fascismo in Italia ma che ha una specifica declinazione nazionale nel nostro paese e anche in Germania ha una inquietante incubazione in Italia ed è risvolto per così dire teorico di una volontà di potenza di tipo coloniale che si è incarnata sia nei Balcani sia in Abissinia sia in Libia e ha colpito gli ebrei poi accomunati ad un ipotetico nemico interno come dimostrano non solo appunto le leggi iniziate nel 1938 ma anche la persecuzione successiva nei confronti degli ebrei al tempo della nascita della cosiddetta Repubblica di Salò la Jugoslavia ci avete raccontato fu letteralmente fatta a pezzi il Dominus fu certo la Germania Dietler nel complesso quadro che ci ha descritto il professor Pirievek a lui si unirono in primo luogo si unì in primo luogo con diverse motivazioni il governo italiano ma anche si è detto l'Ungheria la Rumania la Bulgaria in una tenaglia irresistibile che disfece la fragile unità slava smembrando il paese in tanti satelliti degli stati occupanti ovvero in parte di questi stessi stati come per esempio la Slovenia di Ljubljana che diviene provincia italiana perché oggi abbiamo dato vita a questo convegno che è anche un convegno sulla memoria la memoria non sembra un paradosso è sempre una categoria che riguarda il presente certo l'oggetto della memoria è il passato ma il soggetto cioè colui il quale ha memoria è sempre il presente il soggetto è la memoria che oggi ne hanno gli italiani gli sloveni i croati i popoli slavi la memoria è dei viventi ma la memoria in sé è semplicemente un pensiero se aggiungiamo un aggettivo l'aggettivo attiva se parliamo di memoria attiva quel soggetto presente non si limita ad un pensiero ma parte da un passato per agire nella realtà di oggi e per iniziare come si dice a fare futuro quella che noi all'AMPI chiamiamo memoria attiva è uno dei nostri elementi costitutivi dell'attività sociale ed ecco la ragione di questo convegno che come ha potuto apprendere chi lo ha seguito è stato impostato in base a una rigorosa ragione scientifica senza omettere le responsabilità di chiunque e le contraddizioni del tempo da troppi anni nel nostro paese assistiamo a una rivisitazione delle vicende di quel passato monca clamorosamente faziosa esclusivamente vittimistica l'obiettivo dell'incontro di oggi è contrastare questa deriva propriamente revisionista sapendo che tale deriva non riguarda soltanto l'Italia ma anche diversi paesi dell'Unione Europea per esempio la Polonia e anche al di fuori dell'Unione come l'Ucraina e persino nella infelice risoluzione che se non mi sbaglio ha citato il professor Klavian del Parlamento europeo noi proponiamo insomma una visione degli orrori di quel tempo in particolare della guerra che non riduca la storia a un tappetino della politica ma semmai proponga una politica che faccia davvero i conti con la storia e la storia parla inesorabilmente dei crimini del regime fascista nei paesi occupati oltre che nella stessa Italia e delle complicità collaborazioniste militari e civili e parla anche di un dopoguerra in cui come ricordano in tanti mi ha colpito questa frase in un testo che ho letto un testo del 2007 dello scrittore Predras Matvejevic che scrive l'Italia è uno dei rari paesi forse l'unico che non abbia avuto il suo tribunale di Norimberga peraltro Mussolini era stato esplicito 31 luglio 1942 quando afferma deve cessare il luogo comune che dipinge gli italiani come sentimentali incapaci di essere duri quando occorre in realtà per gli slavi il luogo comune era cessato da tempo da una lettera come riferisce lo storico Enzo Collotti di un soldato italiano a Ljubljana del primo luglio del 42 quindi prima dell'affermazione di Mussolini uccidiamo intere famiglie ogni sera picchiandoli a morte o sparando contro di loro se cercano soltanto di muoversi tiriamo senza pietà e chi muore muore e insomma il tema scabroso ma reale sia di punti di pulizia etnica attraverso la sostituzione degli abitanti con coloni italiani sia dei criminali di guerra italiani rimasti impuniti nonostante le stragi le tante stragi ricordo solo Podum del 12 luglio del 42 l'IPA del 30 aprile del 44 nonostante le vittime civili centinaia migliaia nei campi di internamento in particolare come ci ha ricordato il professor capogreco ad Arbe ma non solo nonostante le azioni sanguinarie dei collaborazionisti della decima mass che a tutt'oggi sono celebrati in città importanti come Gorizia una responsabilità dei fascisti italiani diretta in questi casi ma anche in diretta come nella vicenda ricordata da Erich Gobetti nel dominio in Croazia di Ante Pavelic e del suo rapporto col fascismo italiano il paradosso come ci ha spiegato lui di quella vicenda è proprio confermato dalla vicenda di Ante Pavelic è che i nazionalismi prima alleati prima o poi si scontrano fra di loro proprio perché tali cioè perché nazionalismi sul tema dei propri opposti interessi nazionali all'obiezione per cui ogni guerra ha i suoi orrori e alla conseguente assoluzione postuma perché tutti i colpevoli nessun colpevole è facile replicare non siamo davanti al crimine di guerra come eccezione come strappo alle convenzioni internazionali come forzatura di un ufficiale o di un gruppo di soldati siamo davanti alla teorizzazione e alla pianificazione del crimine di guerra come ci ha ricordato sempre il professor Klabian in sostanza come forma della guerra imperialista a sfondo razziale contro gli slavi Spartaco Capogreco ha già citato il generale Gastone Gambara a proposito di Arbe individuo malato uguale individuo che sta tranquillo insomma l'efferatezza e la quantità dei crimini italiani in territorio jugoslavo è profonda diffusa e ricorrente sapendo comunque che ci furono tanti eventi contrari penso ai tanti militari italiani che divennero partigiani penso come ci ha ricordato il professor Capogreco a coloro che hanno salvato duemila ebrei sapendo in sostanza come vale sempre e come vale per tutti che gli italiani non sono tutti uguali ci sono due modi per affrontare questo nodo tanti anni dopo rimuovere tutto oppure fare davvero i conti con la propria storia contrastando la propaganda vittimista e neonazionalista che negli ultimi anni viene alimentata dai circoli politici e culturali dell'estrema destra italiana vorrei aggiungere a proposito della memoria attiva che il tentativo di asservire la storia alla politica non si limita alla rimozione delle responsabilità fasciste in Jugoslavia né a quelle in Abissinia o in Libia ma affonda nella revisione di ciò che avvenne anche in Italia in quel tempo faccio un esempio di cronaca drammatico ai primi di ottobre del 43 ci fu un evento pesantissimo l'assassinio di Norma Cossetto una ragazza fascista che non aveva alcuna responsabilità né colpa se non l'essere fascista che non è una colpa o una responsabilità in sé un assassino che non si giustifica in alcun modo che sia chiaro ma che si scrive come tanti altri episodi nel clima di parossismo della violenza causato dall'invasione italiana in Jugoslavia dalla drammatica situazione del confine dalla guerra mondiale di quella ragazza peraltro medaglia d'oro al valor civile l'estrema destra italiana ha fatto un'icona una bandiera proponendo ovunque in modo pianificato in tante città italiane l'attribuzione del suo nome a un giardino una via una piazza dietro l'apparente umanità di tale proposta si nasconde una chiara operazione politica su scala nazionale tesa a presentare l'insieme del movimento partigiano italiano e slavo come qualcosa di simile a un movimento criminale bestiale e ad assolvere di converso il fascismo anche questa operazione fa parte del più generale disegno di costruzione di un memoriale vittimario fascista sia chiaro e legittima la proposta di attribuire il nome di Norma Cossetto a una via o a una piazza ma prima occorrerebbe introdurre nella toponomastica di quella città e di tutte le città del nostro paese le centinaia e centinaia di nomi di donne torturate seviziate e uccise dai nazifascisti per esempio Irma Bandiera Ines Bedeschi Gabriella degli Esposti Cecilia De Ganutti Anna Maria Enrique Zagnoletti Clorinda Menguzzato Norma Pratelli Parenti Virgilia Tonelli e ho citato volutamente soltanto le donne decorate con la medaglia d'oro al valore militare tralasciando centinaia e centinaia di altre donne vittime anch'essa della violenza omicida fascista forse a loro e a tutte le altre come loro sarebbe ora di dedicare nel nostro paese una cosa un mausoleo un monumento cioè un ricordo permanente istituzionalmente riconosciuto e vorremmo che a queste e alle tante altre donne italiane seviziate assassinate dai nazifascisti fossero intitolate in primo luogo tante strade a Trieste a Gorizia a Pordenone a Udine analogamente nessuno mette in discussione l'orrore delle foibe anch'esso ingiustificabile e anch'esso frutto di quel maledetto parossismo della violenza che viene sdoganata dalla inutile strage della prima guerra mondiale e praticata dal fascismo italiano ma a condizione che anche questa terribile vicenda sia analizzata al di là e al di fuori della pura propaganda politica dell'estrema destra italiana fondata sulla omissione tendenziosa io non ne parlo ne abbiamo già parlato in altre iniziative in altri convegni mi limito soltanto a citare le parole del 27 dell'allora ministro fascista Giuseppe Cobolli Gigli la musa istriana ha chiamato col nome di foibe quel luogo degno per la sepoltura di quelli che nella provincia dell'Istria danneggiano le caratteristiche nazionali italiane dell'Istria la storia si fa tutta se non si fa tutta non è storia è propaganda ma questo lo abbiamo già chiarito come dicevo sia nel seminario dello scorso anno sul tema la drammatica vicenda dei confini orientali sia nel convegno di Roma del 4 febbraio pardon la drammatica vicenda del 2016 giustamente sia nel convegno di Roma del 4 febbraio del 2020 dal titolo il fascismo di confine e il dramma delle foibe ma ancora perché oggi è in corso un così ampio tentativo di rivalutazione del ventennio e delle sue azioni si tratta si va di bene di un tentativo che passa attraverso l'offensiva mediatica penso senza precedenti mi riferisco a film libri strumenti di comunicazione convegni iniziative il cui obiettivo non riguarda solo il passato ma attiene al presente e cioè rendere legittima e popolare possibile un'opzione politica organizzata che si rifà direttamente o indirettamente al fascismo storico il giorno del ricordo è stato fissato in base a una legge del 30 marzo del 2004 proprio il 10 febbraio che è lo stesso giorno in cui nel 47 nella temperie di un tempo dove cominciava a aspirare il vento della guerra fredda si firmò il trattato di pace che a Parigi mise fine alle ostilità formalmente e ridisegnò parzialmente il confine orientale ce ne ha lungo parlato il professor Tenka Montini ora nella sostanza l'Italia di Mussolini aveva perso la guerra come l'aveva persa la Germania di Hitler e il Giappone dell'imperatore il trattato di pace era certo punitivo rispetto al nostro paese ma ben diverso fu il destino della Germania letteralmente smembrata e del Giappone che subì l'inguaribile mostruosa offesa del primo e unico bombardamento atomico della storia se la sconfitta dell'Italia ebbe conseguenze gravi e drammatiche ma tutto sommato contenute questo avvenne grazie al riscatto della lotta partigiana antifascista ben rappresentata a Parigi dall'allora Presidente del Consiglio Angile De Gasperi che disse fra l'altro la responsabilità e il diritto di parlare anche come democratico antifascista come rappresentante della nuova Repubblica ecco il grande merito mi pare della resistenza italiana il riscatto dell'Italia ed ecco il grande merito della resistenza jugoslava la restituzione dell'autonomia e dell'indipendenza al grande territorio slavo che solo successivamente come si sa si è diviso in diversi stati nazioni grazie alle relazioni degli storici e dei ricercatori che abbiamo ascoltato possiamo così assumere un quadro più completo analitico dell'invasione italiana della Jugoslavia e delle sue drammatiche conseguenze si tratta di un quadro ineliminabile per chiunque intenda conoscere davvero le vicende di quegli anni cercando di costruire finalmente su queste basi una memoria condivisa anche su scala sovranazionale oggi davanti alla sfida dell'Unione Europea che ci ha ricordato Dino Spanghero e alla inedita catastrofe della pandemia abbiamo più che mai bisogno di superare ogni nazionalismo e ogni visione irredentista l'alternativa sarebbe paradossale come si sa lo storico Eric Hobsbawm come noto ha definito il novecento come il secolo breve datandolo dalla prima guerra mondiale e facendolo terminare sostanzialmente con la caduta del muro di Berlino e il novecento fu il secolo dei nazionalismi ecco riproporre oggi in forme dirette o indirette le macabre suggestioni nazionaliste vorrebbe dire tornare indietro nella storia e fare del novecento il secolo lunghissimo un secolo che continua tutt'oggi nel 2021 e si sa che le cose vanno male vanno molto male quando le mani del morto afferrano il vivo concludo ecco perché dobbiamo contrastare la rimozione e la faziosità perché è foriere di una memoria divisiva e dobbiamo proporre la completezza la complessità diceva qualcuno l'obiettività come ragione di una memoria condivisa consentitemi una citazione ho letto di un poeta croato di cui non so moltissimo Ivan Goran Kovacic assassinato dai cetnici del 1943 scrive Ivan le cicale cantavano lontano in un istante una nuvola di passaggio oscurò la campagna sentii uno dei boia che pisciava mentre un altro ci era addosso e ci scannava ecco gli effetti del nazionalismo ma il virus che sta ammorbando il mondo intero con milioni e milioni di contagi e di decessi ci ricorda che mai forse come in questo drammatico anno l'umanità è stata prossima a se stessa e rende ancora più attuali i versi di un altro grande poeta un italiano che conosco molto veglio come forse molti di voi Giuseppe Ungaretti che suonano a mio avviso come la più aspra condanna di ogni nazionalismo e di ogni guerra sono due parole di che reggimento siete fratelli parola tremante nella notte foglia appena nata concludo affermando che in quella guerra d'aprile l'Italia del 41 invase la Jugoslavia facendo transitare dal confine eserciti carri armati lanciafiamme vorremmo penso tutti noi che l'Italia la Slovenia la Croazia tutti i paesi vedessero il confine come non lo vide tanti anni fa l'astronauta Yuri Gagarin quando disse da quassù la terra è bellissima senza frontiere né confini grazie grazie bene vino io penso che a questo punto abbiamo concluso i ringraziamenti li hai fatti tu presidente e tirato le conclusioni di questa giornata che penso sia memorabile mi corre l'obbligo ancora una volta di ringraziare i relatori per le loro puntuali precise e documentate relazioni non è poco l'ho detto anche nelle mie premesse cioè noi abbiamo bisogno di conoscenza se abbiamo bisogno di conoscenza siamo capaci di agire di conseguenza in virtù richiamo anch'io e quest'anno ricorre i 700 sì sono 700 anni che è morto il nostro sommo poeta Dante e ancora una volta richiamo che il fine dell'uomo appunto non è quello di vivere come bruti ma di seguire vertute e conoscenza grazie a tutti e arrivederci al prossimo appuntamento arrivederci grazie 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 a tutti grazie a tutti